Buongiorno a tutti e benvenuti alle trentatresime giornate cardiologiche torinese. Io sono Gaetano Maria De Ferrari e da nome dei miei copresidenti che vedete seduti, Professor Mauro Rinaldi, Fabio Verzini, Fiorenzo Gaeta e il Dottor Sebastiano Marra, vi diamo il benvenuto a questa importante edizione. Già il numero trentatresimo credo che indichi una tradizione di lunga data e Fiorenzo Gaeta si vanta di avere seguito la prima, il che purtroppo denota anche la sua età non più così fresca ma era molto precoce, quindi quando ha seguito la prima edizione era ancora al liceo, questo ve lo possiamo dire. E in effetti è una tradizione molto molto importante che si rinnova ogni anno a cui con piacere partecipo per questa volta come terza edizione. L'anno scorso come sapete è stata interamente via web, quest'anno è ibrida con molte presenze, abbiamo oltre 100 persone in sala già stamattina e questo credo che sia un buon segno per la ripresa dell'attività. In questi due giorni abbiamo messo in piedi un programma direi molto importante, come dice il nome è medicina cardiovascolare, quindi non abbiamo ovviamente solo la cardiologia che naturalmente mi è più vicina, ma la cardiochirurgia e la chirurgia vascolare in una visione più contemporanea e più appropriata di medicina cardiovascolare in senso più lato, perché come sapete ormai vi sono procedure, vi sono pazienti e vi sono strategie che sono completamente comuni alle tre discipline. Avremo molti casi live in the box, avremo molta discussione e credo che saranno quindi due giornate particolarmente intense e particolarmente importanti. Quindi vi ringrazio per essere qui e credo che possiamo iniziare con adeguato, diciamo, tempestività oraria questo convegno. Vi ringrazio ancora e inizieranno fra poco le letture. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Buongiorno. Come vedete, a new day is coming è il titolo di questo meeting e quindi vedremo qual è il giorno che arriva. e quindi chiedo proprio di partire. Mi è stato chiesto di fare, secondo la tradizione di questo meeting, un riassunto di cinque trial molto importanti nell'ultimo periodo dell'insufficienza cardiaca. Queste sono le mie disclosure, sono nessuna. Mi sono naturalmente chiesto da cosa partire. Credo che questa volta non ci fosse storia, perché nel setting della HFPEF, dopo decenni di insuccessi, ecco che arriva lui, il primo imperatore. E senza dubbio da questo dobbiamo partire. Quindi, emperor preserved. L'articolo lo conoscete? L'ultimo, 14 ottobre, è la pubblicazione. Gli altri saranno articoli meno recenti. Quali sono i pazienti? Perché è importante, quando descriviamo uno studio, dire qual è la popolazione, perché a pazienti di questo genere noi dovremo applicare i risultati. Vedete, si parla di una popolazione di età media di 72 anni. molte sono donne e la classe funzionale dell'insufficienza cardiaca più frequente è la classe NIA2, come vedete, con qualche classe NIA3. La frazione di età media è preservata. Vedete, la media è 54%. Pazienti tendenzialmente sovrappeso. Vedete, con una mediana di NT pro BNP di circa 1000. Molti diabetici. Guardate quanti in fibrillazione atriale. 50%. Come ci si attende da questa popolazione. Come tutto sappiamo, ecco l'end point primario. L'end point primario, che è la morte cardiovascolare o l'ospedalizzazione per scompenso, vedete, si divarica prestissimo con una riduzione del 21% e un NNT per un follow-up medio di 26 mesi di 31 pazienti da trattare per prevenire un evento primario. Se andiamo a vedere quali sono i sottogruppi, vediamo che sostanzialmente questo beneficio è presente in tutti i sottogruppi. Quindi una uniformità di efficacia. Anche se andiamo a vedere la frazione diiezione, vi è forse un trend grafico, ma non statistico, di effetto. E vedete, in tutte le sottopopolazioni vi è un beneficio, cosa che non era evidente negli studi precedenti, che avevano naturalmente valori borderline. In particolare vorrei farvi vedere che avviene sia per il diabetico che per il non diabetico e per tutte le classi, come vi ho detto. Inoltre avviene anche per i pazienti che sono sopra o sotto la mediana, NNT pro BNP. Quindi un effetto cumulativo. Se andiamo a vedere le sole insufficienze cardiache, come sapete l'effetto sulla mortalità è non significativo, la divaricazione a me pare veramente abbastanza impressionante. Con un effetto del 23% di riduzione e un effetto immediato già dall'inizio del trattamento. Andiamo ora a un secondo argomento di cui vi vorrei parlare, che è quello della iron deficiency nell'ambito dell'insufficienza cardiaca. Questo studio, come sapete, la FIRM ha ruolato i pazienti alla dimissione di un episodio di insufficienza cardiaca. Anche qui l'età media è simile, 71 anni. Anche qui la percentuale di donne è abbastanza alta. Abbiamo molti infarti miocardici, come vedete, molte cardiopatie ischemiche. La frazione di lezione in questo caso poteva arrivare fino al 50%, quindi è descritta ridotta, ma in questo studio ridotta vuol dire fino al 50%. E come vedete c'è una percentuale relativamente modesta di pazienti che sono impiantati. Se andiamo a vedere la storia di insufficienza cardiaca, abbiamo pazienti appena diagnosticati e pazienti con una storia cronica. Sono assai ben trattati e come potete vedere, come ci si può attendere della gravità della popolazione, l'NT pro-BNP è molto alto. Vedete, 4.700 in media. Sono pazienti anemici, la ferritina è sotto i 100 nel 73% dei casi e negli altri casi, come sapete, dovete avere una saturazione a trasferine inferiore al 20% per definire la iron deficiency. Gli end point sono stati, come potete vedere, statisticamente parlando, borderline. La differenza fra ferride, carbossimaltosio e placebo nell'end point primario ha un AP di 0059, con una divericazione che, vedete, inizia all'intorno del decimo-dodicesimo mese. Lo stesso vale per le ospedalizzazioni e morte cardiovascolare e per le ospedalizzazioni per insufficienza cardiaca, che di per sé sono significative. Come probabilmente sapete, in questa AP è intervenuto il problema del Covid. L'analisi di sensitività prima del Covid è, in realtà, con una AP che è assolutamente significativa di 003. Se andiamo a vedere gli eventi cumulativi, la riduzione è ancora più importante. Vedete, sopra gli eventi totali e sotto gli eventi, come dicevo, con l'analisi di sensibilità in cui sono esclusi i pazienti ricoverati nel periodo Covid, dove la diagnosi di insufficienza cardiaca, come ben sapete, ha richiesto degli accertamenti spesso complessi, vedete, in questo caso la AP, come vi dicevo, è statisticamente significativa nell'end point primario dello studio. Questo si è tradotto in raccomandazioni dell'inneguida. L'inneguida che voi conoscete, uscite a fine agosto della società europea di cardiologia, in effetti indicano in classe 2A la supplementazione endovenosa con ferro carbossi maltosio per i pazienti con FA 50% ed efficienza di ferro con ferritina sotticento o ferritina fra 100 e 299 con saturazione minore al 20%. La classica definizione che è quella compresa dello studio. Vi vorrei parlare poi del Victoria che usa il Vericiguat nei pazienti con insufficienza cardiaca e frazione di eiezione ridotta. Come funziona il Vericiguat? Voi sapete, è un induttore della guanilato ciclasi solubile. Vedete, a sinistra avete il problema della disfunzione endoteliale con il difetto di GMP ciclico. A destra, il meccanismo del Vericiguat, che è duplice, sia stimola direttamente la guanilato ciclasi solubile, sia aumenta la sensibilità alla fisiologica aumento della guanilato ciclasi con l'ossido nitrico. Questi pazienti erano un po' più giovani, 67 anni, un po' più maschi ed erano prevalentemente stati ospitalizzati nei tre mesi precedenti, vedete, per il 66% e tutti comunque nei mesi precedenti all'arruolamento. La frazione di eiezione inferiore al 40% era la maggioranza, in questo caso il cutoff era 45%, per definire rifazione di eiezione ridotta e c'è un importante componente di pazienti in classe in IA3, come potete vedere. Questo era quello che vi volevo sottolineare, con un'FE media del 29%, sostanzialmente, quindi più ridotta rispetto allo studio precedente. Cosa ha fatto vedere lo studio? Una riduzione, da un punto di vista di riduzione relative del rischio, forse relativamente modesta, ma statisticamente significativa del 10% dell'outcome primario, mentre invece la morte cardiovascolare ha mostrato solo un trend non significativo di riduzione. Vedete, sono 5.000 pazienti all'inizio che sono seguiti nel corso dei due anni, sostanzialmente, dello studio. L'ospedalizzazione per insufficienza cardiaca è identica nel point primario e, in maniera un po' curiosa, la morte da ogni causa è ridotta. Cioè non c'è una riduzione della morte cardiovascolare, ma c'è una riduzione della morte da ogni causa, che è un fenomeno che ogni tanto si vede negli studi cardiovascolari e che è sempre un po' di difficile interpretazione. Nei sottogruppi, come voi potete vedere, noi abbiamo una presenza di effetto in quasi tutti i sottogruppi. Va segnalato semplicemente che a destra dell'intervallo di unità, qui della hazard ratio, abbiamo pazienti di età più avanzata e qui abbiamo pazienti nel quarto cartile di BNP. Come se, ovviamente nulla di questo è statisticamente significativo, è solo hypothesis generating, ma come se questo farmaco non fosse adatto negli stati più avanzati della malattia. Mentre adesso, naturalmente, finiremo probabilmente per usarlo proprio negli stati più avanzati. Perché, in effetti, le linee guida appena pubblicate ci mettono in classe 2B la possibilità di considerare vericiguat per i pazienti da classe 2 a 4 che abbiano esaurito sostanzialmente le possibilità con i farmaci tradizionali come gli arni, i betabloccanti e gli antagonisti del recettore mineral corticoide. Un altro studio di cui vorrei parlare, siamo al quarto studio, non rivolge in senso stretto all'insufficienza cardiaca, ma alle cardiomiopatie. Questo bello studio, di cui, come sapete, il primo nome è il nostro collega di Firenze, Jacopo Olivotto, l'explorer HCM che studia il Mavacamten. Il Mavacamten ha come meccanismo d'azione quello che vi illustro in questa fotografia. Qui, questo è un normale legame, come vedete, di actina-miosina con un crossbridge. Nella cardiomiopatia ipertrofica avvia un aumento nella patofisiologia di questi crossbridge con un'ipercontrattilità e un difetto di rilassamento, naturalmente un'alterazione dell'energetica miocardica e con il Mavacamten si riduce sostanzialmente. Quindi è una, come potete vedere, un inibitore della miosina, è un inibitore del legame actina-miosina. Forse voi ricorderete che qualche anno fa è stato proposto in studi, recentemente peraltro finiti l'ultimo, l'omacamptiv-mecarbil, che è sostanzialmente un attivatore di questo stesso processo. Con Mavacamten abbiamo invece un inibitore. Che pazienti venivano arruolati? Una piccola popolazione di pazienti con cardiomiopatia ipertrofica o struttiva con un gradiente molto elevato. Vedete 120 pazienti nel gruppo Mavacamten e 120 pazienti ovviamente nel gruppo placebo, abbastanza giovani, 58 anni di entrambi i sessi, con una cardiomiopatia ipertrofica nota. Curiosamente con una positività genetica abbastanza ridotta, ben 63 centri sono stati coinvolti per arruolare 120 pazienti per gruppo. Quindi in media ogni centro ha contribuito con soli quattro pazienti. Questo deve essere segnalato per la difficoltà di trovare pazienti con le caratteristiche idonee. Vedete sono tutti i pazienti in beta bloccanti o calcio antagonisti non di idropiridinici e come potete vedere c'è un BNP di 700 circa e una frazione di direzione alta. Guardiamo il gradiente che era il criterio. Il gradiente era 50 mm di mercurio in basale, 72 col valsalva e 86 dopo l'esercizio. In effetti l'empoim primario, che è un po' complicato, siccome temevo di non ricordarmelo, l'ho scritto qui è un aumento di almeno un millitro e mezzo del consumo d'ossigeno con almeno un aumento di classe NIA oppure un aumento di almeno 3 mm senza un appeggioramento della classe NIA. Quindi è un po' convoluto ma ha senso clinico. Vedete si è verificato nel 37 per cento dei pazienti con Mavacampte nel 17 per cento del placebo. Ovviamente una differenza statisticamente significativa. L'end point forse più interessante, questo è dal punto di vista clinico per far vedere che il farmaco funziona. Questo è il gradiente del dopo esercizio. Vedete partiamo ad 80, si riduce a 38 con Mavacampte e ne si riduce a 73 con placebo. Ovviamente questa differenza è altamente significativa. Vi ho anche associato questo gradiente di base. Vedete rimane ridotto per i 30 mesi di durato della terapia, rimane ridotto il gradiente col Valsalva e questo si traduce anche in una riduzione della troponina, una riduzione del BNP. Oltretutto abbiamo un aumento della paziente in classe funzionale bassa. Vedete in questo colorino diciamo azzurro è la classe funzionale NIA1 che col Mavacampte finisce per rappresentare metà della popolazione. Prima nessuno era in classe NIA1, metà giunge in classe NIA1, mentre col placebo il 20% giunge in classe NIA1. Quindi una cosa direi interessante concettualmente per ora naturalmente per una nicchia di pazienti specifici. L'ultimo studio di cui vi vorrei parlare nell'ultimo minuto è uno studio completamente innovativo di una tecnologia che ovviamente non padroneggio, ma parlando di cardiomiopatie trovo abbastanza affascinante. Questo studio sulla primi pazienti reali di terapia genica nelle cardiomiopatie nell'uomo. Si tratta di malattia di Fabri. Lo studio è stato pubblicato su Nature un paio di mesi fa, credo, se ricordo bene, e si tratta di una terapia genica ovviamente con vettori virali. Come funziona lo studio? Sono tutti pazienti in terapia enzimatica, come sapete, per il Fabri, a cui viene sottoposta la terapia enzimatica. Si studia l'attività alfa galattosidasi, si mobilizzano le cellule staminali, si prendono, si mandano ovviamente agli esperti, si ingegnerizzano le cellule staminali. I pazienti vengono preparati con il Melfalan prima del trapianto con una dose relativamente bassa. Sono persone di base non tanto malate, non è una leucemia, quindi si danno dosi relativamente basse che ovviamente ridurranno un po' le possibilità di attecchimento delle CD34 positive modificate. Comunque viene ovviamente trapiantato, le cellule autologhe vengono trasfuse e poi ci sono dei follow up molto molto frequenti. Questo è il risultato principale dello studio. Come potete vedere un aumento dell'attività di alfa galattosidasi che è praticamente zero in basale fino a livelli molto molto alti che si mantengono complessivamente fino a tre anni dallo studio e tre su questi cinque pazienti, dice l'articolo, hanno deciso sia clinicamente sia soggettivamente di sospendere la terapia enzimatica per avere riacquistato tutti i benefici e anche di più di quelli che avevano con la terapia enzimatica precedente. Con questo concludo con 55 secondi di anticipo. La domanda che vi posso dire è questa terapia genica come gli altri arriverà alle linee guida? Per saperlo vi invito alle trentanovesime giornate cardiologiche qui a Torino nel 2029 e lo sapremo. Grazie. Dopo di me vi racconterà quali sono i cinque trial più importanti che ha il professor Mauro Rinaldi che crede non abbia bisogno di presentazione. Mauro. Grazie. Grazie Gaetano. È davvero un grande piacere vedere la sala piena. Dopo quando abbiamo concepito questo programma nessuno immaginava come potesse essere e quindi è molto bello questo. Sono qui con particolare soddisfazione quest'anno. Ho l'onore di dirigere un dipartimento fantastico che è ereditato dai nostri due co-chair e dove davvero facciamo un lavoro quotidiano impressionante tutti insieme con al centro la sala ibrida. Vedrete molte di queste una rappresentazione di quello che è veramente l'art team, il vascular team, l'aortic team in molte dei live in a box che avrete modo di seguire più tardi nel pomeriggio. Come capo dipartimento porto anche i saluti del direttore generale Giovanni Lavalle che non può intervenire è stato convocato in assessorato e del direttore della scuola di medicina Umberto Riccardi che anche lui ci teneva molto a far sentire la vicinanza. Non è valido. È partito il cronometro mentre io parto adesso con la presentazione con un minuto di abbuono. Sapete che i trial clinici, i prospettici randomizzati in chirurgia cardiaca non piacciono molto ai cardiochirurghi in genere. Sono difficili da fare, ci sono motivazioni come dire etiche di numerosità e non ultimo di sponsorizzazione che per noi è particolarmente difficile. Ho cercato di selezionare i cinque che più mi hanno impressionato negli ultimi anni e che hanno più come dire impattato nella nostra pratica clinica clinica. Il primo, il quinto anzi partiamo dal quinto e l'ho scelto solo perché è di fatto il più il più vecchio in ordine cronologico è questo studio, un prospettico randomizzato spontaneo non sponsorizzato sulla insufficienza mitraica funzionale ischemica. È una ampia partecipazione italiana vedete e sostanzialmente randomizza i pazienti a una anorplastica restrittiva che è quella che vedete ho il pointer, il pointer, il mouse non punta. Ah ok scusate, vedete questo è lo standard of care che attuiamo da molti anni, questa anorplastica restrittiva paragonata con un'associazione di anorplastica restrittiva e un intervento che si chiama papillary muscle approximation. Sostanzialmente si tratta di mettere insieme le teste di papillari anteriore e posteriore questo serve a ridurre la tensione delle corde tendine e a ridurre il diametro del ventricolo di sinistra. Questi sono stati vedete randomizzati uno a uno pazienti ischemici che hanno subito anche bypass orto coronarico il primary endpoint è il rimodellamento positivo cioè il diametro teridiastolico del ventricolo sinistro e un secondary endpoint importante che era la sopravvivenza libera da major adverse event. I risultati sono stati secondo me molto impattanti, vedete che l'unico gruppo che effettivamente rimodella in senso positivo è quello a cui oltre all'anorplastica viene aggiunta una procedura come diciamo noi sub mitralica vedete che il diametro teridiastolico migliora in maniera significativa e non atteso ma assai importante migliora la frazione azione questo a cinque anni di distanza e se andiamo all'endpoint secondario anche questo vedete è pienamente che la sopravvivenza libero da composite cardiac endpoint vedete che è ottenuta e quindi è uno studio in questo senso positivo. Il take on message che io ho pensato è che l'idea di correggere una valvola mitralica in un ventricolo disfunzionante probabilmente ha un valore ovviamente limitato e questo dovrebbe far riflettere anche nelle procedure interventistiche, stiamo parlando di MitraClip ad esempio un gesto sottovalvolare probabilmente aggiungerebbe dei benefici e la papilla rimassa l'approximation dovrebbe essere lo standard care in pazienti con insufficienza mitralica e ischemica funzionale. Al quarto posto ho scelto una cosa che farà felice il professor Gaeta e sono i risultati dell'AUS3 sono pazienti che vengono sottoposti a intervento di cardiochirurgia in fibrillazione atriale e lo scopo dello studio, l'ipotesi era che chiudendo l'auricola sinistra questi pazienti avrebbero avuto nel futuro una minore incidenza di stroke e di embolismo sistemico. Erano tutti pazienti in fibrillazione atriale, circa il 50% parossistica, il rimanente 50% il resto. Vedete uno studio altamente positivo, a 72 mesi vedete che i pazienti che hanno avuto l'auricola sinistra trattata hanno una incidenza cumulativa significativamente inferiore di stroke e di embolismo sistemico arterioso. Un largo numero di pazienti, oltre 4.000, vedete quindi uno studio altamente significativo. E se guardate la cosa interessante è che in tutto il sottobruppo, in tutti i sottogruppi di pazienti questo avviene. Non è importante l'età, non è importante neanche il chadva score, non è importante il tipo di chirurgia valvolare o no e non è importante se hanno subito un'ablazione intraoperatoria della fibrillazione atriale o no. Questa è una cosa che mi dà sempre da pensare, ma apparentemente i dati sono in questo senso. Il take-home message qui è chiarissimo e che in tutti i pazienti, e noi come chirurghi abbiamo sempre snobbato un pochettino la fibrillazione atriale, è ora di riconsiderare questo concetto. L'auricola sinistra va chiusa in tutti i pazienti che vanno incontro a cardiologia e sono in fibrillazione atriale. Al terzo posto non potevo non parlare di partner 2. Partner 2, lo sapete tutti, i risultati a 5 anni recentemente pubblicati, non vi tedio con lo scopo dello studio, è un prospettico randomizzato, TAVI contro chirurgia in pazienti a rischio intermedio con STS superiore o uguale a 4. Il primary endpoint a 2 anni, che era un non-inferiority per morte per ogni causa e disabling stroke, è stato assolutamente incontrato. Il discorso del follow-up a 5 anni, vedete, sono emersi dei dati interessanti e le curve iniziano a divaricarsi in maniera significativa. Vedete il landmark analysis della morte, disabling stroke, dopo i due anni è in favore della chirurgia, così come le entità delle reospedalizzazioni sono a favore della chirurgia. Se guardate i sottogruppi, mentre a 2 anni vedete che più o meno tutto è tendenzialmente favorevole alla TAVI, a 5 anni, e questo purtroppo non era riportato nel lavoro, ahimè, ma nell'appendice, e questo è una cosa che i giovani devono capire, guardare sempre approfonditamente i lavori prospettici, vedete che a 5 anni c'è una tendenza a favorire la chirurgia in tutte le categorie di rischio. Le conclusioni sono queste, mi sono permesso di riportare una nostra speculazione che abbiamo fatto con un gruppo di cardiochirurghi italiani e francesi e con l'ausilio di insigni statistici, analizzando tutti i data record dei pazienti del partner 1, dall'1 al 3, e vedete gli studi elencati. E sostanzialmente la diapositiva da seguire è questa, vedete che entro il primo anno la TAVI ha una chiara supremazia in termini di sopravvivenza, qui stiamo parlando all cause mortality, da un anno a 40 mesi la situazione è sostanzialmente pari e patta, dopo i 40 mesi la TAVI in realtà è un fattore di rischio per mortalità. Questo è un messaggio che ci deve fare riflettere. Al secondo posto ho messo per completezza un altro studio che riguarda le TAVI, questo a differenza del precedente che è uno studio prospettico randomizzato in pazienti altamente selezionati con un recruitment rate molto basso, questa è una fotografia del mondo reale, sono i dati a 5 anni del GERI registro, il registro più completo, più esteso in Germania dell'attività di chirurgia ortica, sia chirurgica, sia SAVR che TAVR, che transcatettere. Vedete sono oltre 18 mila pazienti, il primary endpoint è la mortalità a 5 anni, vedete che ovviamente essendo un registro sono stati matchati i pazienti con un propensity score match, i risultati hanno analizzato 2 anni con un follow up completo a 5 anni, hanno seguito prospetticamente per 5 anni quelli arruolati nel 2011 e nel 2012 e vedete che la chirurgia a 5 anni ha un significativo impatto sulla sopravvivenza e l'ASAR ratio, lo vedete da questa parte della diapositiva, è chiaramente in favore della chirurgia rispetto alla TAVI. Il take home message molto prudente direi, ma sostanzialmente dopo il propensity match, la TAVI, queste è ovvio non sono protesi di ultima o meglio di ultimissima generazione, sono protesi come si dice qui early generation, la TAVI era associata a una significativa più alta mortalità a 5 anni rispetto alla chirurgia. Ho messo al primo posto questo studio che è molto interessante e va un po' nel senso delle ultime linee guida sulla chirurgia aortica. Questo è uno studio prospettico randomizzato, anche in questo caso spontaneo, non sponsorizzato, di early surgery paragonata con la strategia del watchful waiting o comunque il conservative care in pazienti con stenosi aortica asintomatica, normale funzione ventricolare sinistra, ventricolo non dilatato e normale frazione di elezione. Quindi questo è il campo più chiaro di stenosi aortica sostanzialmente del giovane. Sono stati randomizzati, vedete, pazienti totalmente asintomatici, tutti quelli che avevano frazione di elezione compromessa o ventricolo dilatato sono stati esclusi, sono stati randomizzati a early surgery oppure a, vedete, terapia, osservazione con eicoseriati. La cosa veramente impressionante è l'indice cumulativo di morte per causa cardiaca o per ogni causa. Vedete che i pazienti che vanno incontro a early surgery hanno un chiarissimo vantaggio in termini di sopravvivenza. Questa è una cosa che noi cardiochirurghi abbiamo sempre sentito fortemente, che le nuove linee guida parzialmente correggono. Il fatto cioè che una stenosi aortica, anche se asintomatica, anche con un ventricolo normofunzionante, debba essere considerata per chirurgia. E anche qui il take-home message è abbastanza chiaro. La stenosi aortica severa ha un'alta mortalità, se non trattata anche se asintomatica. I pazienti, in questo caso, infatti, più che la sintomatologia, bisognerebbe guardare sulla aspettativa di vita di pazienti. I pazienti giovani con stenosi aortica severa, early surgery, non c'è dubbio. Non abbiamo qui la possibilità di mostrare i risultati dell'Avatar Trial, a cui abbiamo partecipato anche noi qui a Torino. Saranno comunicati all'American Heart Association prossima, sono in considerazione per pubblicazione su Circulation, e vanno, ve lo posso dire, esattamente nella stessa direzione. Cioè uno studio che replica quello che hanno fatto, appunto, in Estremo Oriente, qui in Europa, in pazienti, anche questi, stenosi aortiche asintomatiche, normale funzione e dimensione del ventricolo sinistro. E vi lascio con questa, soprattutto per i giovani, imparate che quando si guarda agli studi prospettici, randomizzati, ai grossi trial, imparate a guardare sempre sotto la superficie del messaggio che viene veicolato, perché spesso trovate delle sorprese. Grazie molte per l'attenzione. E adesso introduco l'amico Sebastiano Marra, che ci terrà una lecture, ha cambiato completamente titolo, non parlerà più di trial clinici, ma di un'altra cosa. Allora, grazie Mauro, grazie a tutti. Con piacere vedo tanti colleghi qui presenti in prima mattinata, questo ci riempie di orgoglio. Dunque, perché ho cambiato il titolo? Perché quando il 31 di agosto sono uscite le linee guida sulla prevenzione delle materie cardiovascolari, credo che ci fosse veramente poco da andare ad analizzare sui precedenti, perché hanno veramente fatto una sintesi meravigliosa. Quali sono le mie disclosures? Eccolo qua. Io sono molto compromesso, non posso dire di essere lontano da questo problema, visto che sono presidente di questa associazione da tanti anni, e il lavoro che facciamo è proprio quello di prevenire la malattia cardiovascolare. Andiamo al sodo. Cosa c'è di nuovo? Scusate, sono quattro pagine. Le prime quattro pagine di 146 pagine. Vedete, lato sinistro bianco, che riferisce al 2016, le ultime guida, lato destro ricco di novità. Quindi vuol dire che c'è qualcosa di tremendamente interessante. Cosa non è mai stato scritto? E un po' ci ha veramente sorpreso, piacevolmente sorpreso. Il rischio, diciamo, lo stima del rischio, il trattamento di pazienti apparentemente sane, ovviamente, è stato portato ben oltre i 70 anni, poi vedremo i dettagli, e si arriva a ben oltre i 90 anni. Quindi prevenire sempre la stima del rischio in condizioni cliniche specifiche, quindi non il rischio così nelle nuvole sulla popolazione. L'individuo ha lo scompenso, ha l'insufficienza respiratoria, ha l'insufficienza renale. Grande attenzione alle problematiche mentali, la depressione, l'ansia, l'insonnia, che condizionano molti sviluppi di rischi cardiovascolari. E poi valutare le cosiddette popolazioni a cui ci riferiamo, che può essere la popolazione italiana, norvegese, ma anche piemontese o anche di Torino. E poi può essere geograficamente identificata, oltre in anziani, donne o particolarità. E poi, da nuovo, l'implicazione per la pubblica salute delle modifiche del clima. Perché necessitiamo di queste nuove linee guida? Ma intanto dobbiamo supportare, le linee guida supportano gli sforzi nel ridurre il danno della malattia cardiovascolare sia sul singolo individuo, sia sulle popolazioni. E poi gli sviluppi recenti nelle nostre capacità predictive della malattia. E l'evidenza di trattamenti che hanno dato un grande beneficio ci portano a modificare, a necessitare queste linee guida. Speciali considerazioni, ovviamente, per categorie particolari e la distinzione delle categorie. E quali sono le popolazioni che noi stiamo valutando? Ma un po' tutte. Quelli, soprattutto, apparentemente sani, dove c'è la prevenzione cosiddetta, anticamente chiamata primaria. Le persone anziane, molto anziane, veramente, oltre a Ederley, i pazienti con malattia, ovviamente già presente, e pazienti senza malattia, ma con delle condizioni cliniche che non promettono bene. E a tutti questi dobbiamo dare degli obiettivi ben precisi, in una maniera molto gerarchizzata, molto precisa. Perché questa diapo? Per sconfortarci un attimo. Vedete, l'Italia è nel gruppo del cosiddetto rischio moderato. Noi pensiamo di essere virtuosi, a dieta mediterranea, al nostro vino, l'olio d'oliva. Invece non siamo poi così ben messi. E un esempio su focalizzarci l'importanza dell'età e l'importanza poi della definizione dell'entità del rischio. Prendiamo un cinquantenne. Un cinquantenne, vedete qua, vediamo se riesco... Vabbè. Prendiamo un individuo di cinquant'anni che abbia un rischio moderato basso, proprio basso. Quindi zona verde. Tiriamo sulla riga, vediamo che lui ha, nei dieci anni, un rischio che è intorno al 2,5-3% di avere un evento cardiovascolare. Lo facciamo invecchiare. Gli diamo 80 anni, quindi andiamo dall'altra parte della colonna bassa, e vedete che il suo rischio di avere, già solo per la modifica dell'età, nient'altro, triplica il rischio di un evento. Quindi vedete quanto è importante vedere i pazienti in questa maniera qua. E qui la definizione tra qualità del rischio, un rischio basso, un rischio medio, un rischio alto, molto alto, e età. Vedete, con l'età si triplica il rischio di un evento, ma anche con l'aumento del rischio e l'aumento dell'età moltiplico sempre per 2, per 3 il rischio dell'evento. Quindi sono due cose che si concatenano. Facciamo un piccolo riassunto. Questa diapola sembra un po' confusa però. Che cosa stiamo facendo? Ci occupiamo di pazienti su in alto, vedete, apparentemente sani, con malattia o con condizioni particolari. Valutiamo quali sono i possibili modificatori dei rischi. Questo è importante. Che siano psicosociali, etniaci, dieti etici, stili di vita. Lo valutiamo questo rischio, lo definiamo con le carte che vedremo ancora dopo. Informiamo il paziente, cerchiamo di avere un suo consenso, chiamiamolo chiaro, e poi andiamo su delle linee che sono individualizzate su certi settori e di tipo invece, chiamiamolo a livello di popolazione per altri settori perché non dipende da lui, il clima non dipende da lui, certe attitudini al fumo non dipende solo dall'individuo. Va bene? Perché non va avanti? Ok. Quindi a questo punto, scusate, solo per fare delle definizioni, invece di parlare di fattori di rischio, parliamo di modificatori potenziali del rischio. Quali sono? Eccoli qua. Fattori sociali, psicologici, di etnia. L'imagine ci può definire meglio certe cose, la fragilità dei pazienti, la storia familiare, genetica, non ve li elenco tutti perché vi annoierei. Ma, secondo punto, questo tipo di paziente va visto come, quali sono le sue condizioni individuali? Ha questo individuo una fibriazione atriale, un'insufficienza renale, ha scompesso cardiaco, ha tumore, ha un'insufficienza respiratoria e così vedete quante cose dobbiamo valutare per dire a questo individuo quale condizione clinica ha, su quale caliamo i suoi consigli. E, non ultimo, lo stile di vita. Stile di vita che è una bella parola, ci riempie la bocca, però di cosa è fatta? È fatta di attività fisica, è fatta di nutrimento, è fatta di peso corporeo e, se permettete, analizziamo un secondo come erano le linee guida precedenti, vedete qua, vedete, prendiamo i fumatori il lato destro della diapositiva, su in alto, pressione alta, colesterolo alto, hanno un rischio che è oltre il 30% in violetto, ok? Tutto lì, fino a 69 anni. Prendiamo l'attuale e prendiamo pazienti con un profilo di rischio molto elevato, vedete, ho messo solo la colonna uomini, fumatori e non fumatori, stesso tipo di età, vedete che non c'è solo più del 30%, vedete che c'è l'individuo che ha da 15% a 20%, a 41%, quindi si attaglia molto più precisamente e se noi abbassiamo il rischio, vedete qua, vedete che è molto più basso, sulla tabella precedente si parlava di un rischio basso fino al 5%, guardate giù in basso i numeri, c'è l'1%, 2%, 3% e quelli più anziani viaggiano su 6, 7, 8%, quindi questa è definizione precisa. Se permettete, le prime sette raccomandazioni della linea guida dicono semplicemente che classicamente occupiamoci di quelli cosiddetti sotto i 70%, perché sono quelli che sono la popolazione dominante, però attenzione, quelli sopra i 70 anni non vanno assolutamente trascurati, qui la rivoluzione, e cosa vuol dire l'alto rischio e il molto alto rischio? Vuol dire una somma di fattori, condizioni cliniche, fattori di rischio e situazioni ambientali, psicologiche che lo fanno, quindi non è solo quanti fattori di rischio ha? 3, 4, 5, 6, 6, no, attenzione, magari ha due fattori però ha un'insufficienza renale e così via. Poi, avanti, l'intensità del trattamento deve essere assoluta, l'età condiziona molto quello che è il rischio dell'individuo, il paziente è ben informato, e le condizioni mentali del paziente perché qui si cala l'accettabilità. Allora, gli interventi da fare quali sono? A livello di popolazione, vedete qua, prendiamo i grandi anziani, sopra i 70, vedete, in classe 1, verde, 1, vedete qua, prendiamo 85-89 anni, pazienti con profilo di rischio molto elevato, vedete che ancora si considerano questi individui con dei rischi che vanno dal 47% al 64% di avere un evento nei dieci anni prossimi, quindi altissimo. Questi vanno corretti, va considerato. Quali sono le condizioni cliniche in cui calare poi questo contesto? L'abbiamo detto, problemi mentali, vedete, in classe 1, in classe 2A, invece, il discorso di valutare gli anziani e il loro rischio, sempre, la cosiddetta fragilità, la presenza di problemi mentali e di disfunzione erettile. Vedete, anche queste cose qua contano. Le donne, classe 2B, è la prima volta che le donne hanno nelle linee di guida europee un ruolo così preciso per quello che può essere le gestosi, l'attività infiammatoria cronica, la problematica ormonale e vi ricordo che le donne sono entrate in linea guida solo dieci anni fa nelle linee guida americane, prima non se ne parlava proprio, quindi questa è una definizione molto precisa. rischio legato alla polluzione dell'aria, vedete qua, cosa dice? I pazienti a molto alto rischio o ad alto rischio vanno valutati con tanta attenzione anche su questo fattore e fare su questi pazienti in queste regioni degli screening valutativi e dei programmi valutativi che non è una cosa banale. A livello individuale bisogna modificare tante cose, cerco di elencarvele, andiamo avanti con questo, stile di vita, stile di vita è fatto di attività fisica, è fatto di dieta, dieta mediterranea come volete, attenzione al consumo dell'alcol che forse per noi è più etico mentre non per tutti è così, l'alimentazione, tipologia di alimentazione, il solito problema di evitare i grassi, preferire i cosiddetti pesci, attenzione però vedete sempre in classe 1 i disordini mentali, la depressione, perché la depressione incide moltissimo nell'accettazione di linee guide, di consigli, nella continuità terapeutica e quindi gioca un ruolo che è al di sopra di questi e poi il discorso del peso, importantissimo, vedete qua, questo è un vecchio lavoro di alcuni anni fa dove diceva che il comportamento dietetico influisce già sul 50% dei fattori di rischio, quindi parlando di dieta vedete quanto si può influire e qui permettetemi un'osservazione interessante, per quello che riguarda la cessazione del fumo, uno può dire vabbè, cessazione del fumo, bene, le linee guide dicono se tu hai più di 90 anni, ripeto, più di 90 anni, sei obbligato ancora e hai beneficio ancora in termini di guadagno di vita libera da eventi cardiovascolari anche oltre i 90 anni, questa è una bella lezione, sul colesterolo, non sto a raccontarvi quanto bisogna correggere, perché stiamo qui fino a domani, però vedete anche qua, sul colesterolo la diminuzione di un millimole, che sono poi 40 milligrammi, comporta un guadagno di libertà di vita da eventi impressionante, anche nei superanziani, sopra i 90. Pressione arteriosa, non stiamo qui a definire i valori, che li conoscete benissimo, guardate qua, 10 militri di mercurio ridotte nei novantenne o ultra i novantenne fa guadagnare mesi di vita, quindi mai trascurare questo, quando si diceva ma le statine dell'anziano, la pressione dell'anziano, guadagniamo anni di vita, che poi vuol dire anche recupero sociale dell'individuo, mentale dell'individuo, familiare, eccetera, eccetera. Sul diabete, i nuovi farmaci, avete sentito prima il beneficio che hanno solo, da professore Ferrari, non solo sul diabete, ma su quello che è l'apparato cardiovascolare, portano tutti in classe 1A, l'uso dei nuovi farmaci, gli SGLT2, e così via, tutti i tipi di scompenso, rifrattario, e cosiddetto ventricolo normale, la parte psicologica, anche se la valutazione, vedete qua, è in classe 2A, quindi è un consiglio importante, anche se non è mandatorio, lo stile di vita è importantissimo nel comportamento e nell'accettazione, l'uso per esempio anche dell'archiologia bariatrica nel cercare di modificare quello che può essere il peso corporeo, da pensarci seriamente, riferire il paziente a terapie psicoattive per migliorare la sua compliance e riducere il rischio di eventi e soprattutto ridurre quello che è il rischio di una depressione maggiore. Come concludiamo? Concludiamo che in classe, vedete qua, raccomandazioni in classe 2A, 2B, 2A e 3 abbiamo delle cose importanti, soprattutto quello di modificare i stressori sociali e quelli che sono psicosociali che rendono poi i fattori di vita, lo stile di vita concreti. Le raccomandazioni sul livello diagnostico a livello 2B dice attenzione a usare delle cose molto semplici, per esempio il calcium score, non imbarcarsi in esami molto complessi e cercare di capire la placca dove è, se c'è, soprattutto per poi gestire quella che è la terapia. Da ultimo, quello che non è da raccomandare è quello di non fare una collezione rutinale di esami complessi dove si va a vedere il tratto genetico, dove ci sono i biomarker urinari, i biomarker biologici in pazienti che magari hanno un profilo di rischio che non è così adeguato, perché questo può solo aumentare i costi senza beneficio. conclusione, prevenire è il più vantaggioso ed è più efficace che curare la malattia cardiovascolare. Grazie. E adesso il professor Gaita ci darà la sua lezione sulla morte improvvisa. Grazie, Fiorenzo. Buongiorno a tutti, colleghe e colleghe. in un'epoca in cui ormai la cardiologia ha fatto delle progressi incredibili grazie soprattutto alle nuove tecniche, all'imaging, alla raccolta dei dati nei lavori randomizzati molticentrici, c'è ancora spazio per una vecchia metodica quale è l'elettocardiogramma. Oggi siamo a oltre 120 anni dall'utilizzo dell'elettocardiogramma e io vorrei spendere questi 15 minuti nel dimostrarvi che la metodica più semplice che abbiamo sempre avuto a disposizione e a tutt'oggi ancora una metodica che utilizziamo e che ci può dare delle sorprese da diversi punti di vista soprattutto in questo argomento, l'argomento della morte improvvisa. La morte improvvisa in realtà è la sconfitta del cardiologo. Noi facciamo tutto per che il nostro paziente viva, viva di più, viva meglio e poi ci troviamo di fronte ad un evento quale è la morte improvvisa. Qual è l'ampiezza del problema? Enorme. Se consideriamo una popolazione generale circa l'uno per mille dei soggetti può avere all'anno una morte improvvisa. Se consideriamo i giovani la mortalità scende scende di molto scende allo 0,2 0,3 su 100.000 persone molto più alta nei maschi rispetto alle donne molto più alta negli sportivi soprattutto negli atleti agonisti rispetto alla non atleti. che cosa abbiamo usato per anni per cercare di individuare le cause e quindi prevenire la morte improvvisa? Abbiamo usato l'esamo toptico. Che cosa abbiamo imparato dall'esamo toptico? Che dobbiamo fare una grande distinzione legata in cui la barriera viene formata dall'età tra pazienti che hanno più di 40 anni in cui le cause principali di morte improvvisa sono essenzialmente la cardiopatia ischemica o la cardiomiopatia dilattativa idiopatico ischemica associate e quelli invece giovani in quelli giovani abbiamo moltissime cause che e le rivedremo tra poco tutti insieme che possono darmi la morte improvvisa vediamole intanto scopriamo qualcosa che la prevalenza delle diverse cause cambia a seconda della casistica che andiamo ad analizzare in Veneto per esempio che cosa succede? come faccio a far vedere la l'ho trovata in Veneto un centro che si è sempre occupato di displasia una regione in cui la displasia ha sicuramente una prevalenza maggiore la causa principale di morte nei giovani in giallo è la displasia ritmogena o la cardiomiopatia ritmogena del ventricolo destro se ci spostiamo negli Stati Uniti Meron eminenza mondiale della cardiomiopatia ipertrofica bene che cosa trova in una popolazione di giovani come causa principale di morte improvvisa cardiomiopatia ipertrofica mentre in giallo la displasia o la cardiomiopatia ritmogena rappresenta soltanto il 5% la popolazione che secondo me è meno influenzata dal riferimento dell'anatomo patologo è questa popolazione di militari americani e qui che cosa scopriamo? vediamo che in realtà la causa principale di morte è sconosciuta nel 35% dei casi il medico settorio non è in grado di identificare una causa e vedremo nei prossimi minuti che molto probabilmente la causa principale di questo 35% è rappresentato dalle vere e proprie malattie aritmogene dalle channelopatia che cosa ci può aiutare l'elettrocardiogramma? sicuramente nella diagnosi ma non solo nel valutare la progressione della malattia nel stratificare il rischio e valutare eventualmente la terapia mi piace citare questo lavoro di qualche anno fa 5 anni fa di 15 articoli 47.000 giovani atleti bene che cosa ci dice? che l'elettrocardiogramma è utilissimo con una sensibilità del 94% una specificità del 93% nel porre diagnosi di patologia sottostante vediamo che cosa sappiamo partiamo dalla prima patologia italiana la cardiomiopatia aritmogena sappiamo che l'elettrocardiogramma è il punto cruciale per porre la diagnosi a punteggio di questa patologia non visto l'elettrocardiogramma le alterazioni elettrocardiogrammiche possono essere divise in maggiori o minori basta avere due criteri maggiori o un criterio maggiore due minori per porre la diagnosi senza bisogno di fare tutta una serie di altri esami che al limite confermeranno semplicemente la nostra diagnosi bene vediamoli insieme rapidamente quando avete un tracciato come questo non avete bisogno di un eco perché l'eco tanto difficilmente vi identificherà una cardiomiopatia aritmogena a destra perché non riuscirà a vederla la risonanza magnetica sì quella vi sarà positiva ma solo in una fase avanzata l'elettrocardiogramma invece vi dà informazioni fin dall'inizio e vi dà informazioni sulla progressione della patologia che cosa ci dice l'elettrocardiogramma quando vedete delle t negative nelle precordiali destre dovete sospettare una displasia aritmogena quando poi a questo si associa un slargamento un'incisura sulla parte ascendente dell'onda s nelle derivazioni destre anche questo è un altro criterio che vi deve far pensare ad una cardiopatia aritmogena il terzo parametro che vale sia per la cardiopatia aritmogena che per il brugada è che l'elettrocardiogramma registrato in v1 v2 il QRS è più largo rispetto a quello che trovate in v6 quindi basta tirare come vedete qui una riga nel vostro studio e se la v1 v2 è più larga della v5 v6 potete pensare o alla displasia o al brugada e poi l'onda y bene tutto questo sono cose che conosciamo per di più sappiamo che l'elettrocardiogramma ci dà delle informazioni sulla displasia in quella fase preclinica in cui tutti gli altri esami sono ancora negativi e una qualcosa che dobbiamo tenere assolutamente a mente è che se ho un dubbio basta seguire il paziente per anni e vedremo l'elettrocardiogramma se c'è la displasia trasformarsi c'è qualcosa di nuovo a questo riguardo beh c'è moltissimo grazie all'imaging negli ultimi dieci anni abbiamo imparato che esiste anche la cardiomiopatia ritmogena del ventricolo sinistro associata o meno alla displasia destra c'è stata vi consiglio di leggerlo questa bellissima revisione dei criteri di displasia destra e sinistra pubblicata l'anno scorso e che cosa ci dicono in sostanza rispetto alla cardiomiopatia ritmogena sinistra ci dicono che ce lo dimostra l'imaging la risonanza magnetica ma l'elettrocardiogramma ci aiuta ogni volta che voi trovate una riduzione del voltaggio del QRS nelle derivazioni periferiche dovete sospettare la presenza di una fibrosi non sono del tutto d'accordo con questo io spesso sono un polemico perché secondo me almeno riguardando i nostri casi adesso lo vedremo anche che cosa abbiamo pubblicato a questo riguardo questo criterio non riguarda soltanto le derivazioni limbiche degli arti ma riguarda anche la riduzione dei QRS nelle altre derivazioni quando c'è un processo infiltrativo sostitutivo per cui del tessuto miocardico viene sostituito da grasso o da fibrosi è chiaro che i voltaggi del QRS tenderanno a ridursi e citerei a citare questo lavoro questo lavoro pubblicato da Leonardo Calò quest'anno a cui ho partecipato ho partecipato su questo caso questo è l'elettrocardiogramma di un sportivo professionista giocatore di calcio di serie A che muore 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 di morte improvvisa guardate questo elettrocardiogramma che cosa c'è di strano? beh oltre a queste incisure in V1 la cosa che ci colpisce è questo asse elettrico deviato a destra è lo stesso asse elettrico che vedete deviato a destra in quest'altro giovane soggetto che muore anche lui atleta a 24 anni è caso ben documentato dal dottor Calò a Roma che cosa presenta questa è la non cultura dell'elettrocardiogramma questo è un elettrocardiogramma che fa schifo questo dimostra che chi ha fatto questo elettrocardiogramma si è infischiato minimamente di tutte le informazioni che potevo ottenere da questo elettrocardiogramma da questo elettrocardiogramma avremmo potuto tenere tantissime informazioni invece vi assicuro che la maggior parte delle informazioni le perdiamo perché non crediamo più all'elettrocardiogramma questo è il reperto adottico del nostro paziente del paziente torinese bene guardate una chiara displasia che coinvolge non solo il ventricolo destro ma che coinvolge anche chiaramente il ventricolo di sinistra questo è il caso pubblicato sull'articolo questo è l'elettrocardiogramma del ragazzo a 16 anni 8 anni prima della morte improvvisa questo è l'elettrocardiogramma alcuni mesi della morte improvvisa che cosa notate riduzione dei QRS e notate soprattutto la comparsa di un emiblocco posteriore sinistro questo è l'elettrocardiogramma di qualche giorno prima della morte avete l'aggiunta dell'estrasistolia che vi dice chiaramente che parte dal ventricolo parte anterolaterale del ventricolo di sinistra e questo purtroppo è il reperto autottico bene con Leonardo abbiamo voluto valutare su 109 pazienti che erano morti di morte improvvisa e su cui non avevamo capito le cause quali fossero la prevalenza di questo aspetto a blocco posteriore se è stato trovato nel 9% in 10 casi nel 9% di questa popolazione risuscitata o morta per arresto cardiaco improvviso e che cosa troviamo che la risonanza magnetica è sempre positiva che cosa troviamo che anche la genetica ci tende a spingere che molti di questi pazienti hanno una genetica positiva per quanto riguarda la displasia se andiamo a rivedere Leonardo rispetto a noi la fortuna di avere un database enorme di elettrocardiogrammi su 8.892 elettrocardiogrammi di soggetti normali possiamo trovare un blocco di branca fascicolare posteriore scusate nello 0,09% allora voi dite beh che cosa vuol dire questi stan bene no se a questi soggetti facciamo una risonanza magnetica scopriamo che nella grande maggioranza dei casi troveremo della fibrosi quindi un blocco fascicolare posteriore isolato e espressione di cardiomiopatia ritmogena cardiomiopatia ipertrofica abbiamo detto che un elettrocardiogramma come questo ci dice che il paziente ha la cardiomiopatia ipertrofica però che cosa c'è di nuovo questo bellissimo lavoro del gruppo di rapezzi che ci dice che se avete un QRS allargato e se avete quel pattern tipo pseudo-ischemico il vostro paziente lo potete stratificare come paziente più a rischio e infatti andiamo a vedere come impatta impatta con un aumentato rischio sia l'una QRS allargato sia la presenza di pattern pseudo-ischemico e se associamo a quello che è il sistema classico che noi utilizziamo per stratificare il paziente con cardiomiopatia ipertrofica come rischio quindi il calculator che tiene conto delle parametri clinici andiamo a aggiungere a questo i parametri elettrocardiografici guardate come si modifica tutto riusciamo a discriminare meglio tre pazienti con cardiomiopatia ipertrofica quelli a rischio da quelli non a rischio ritorniamo alla ciannellopatia che cosa hanno in comune sono malparatologie ereditarie soggetti giovani assenza di cardiopatia strutturale spesso la morte improvvisa la prima manifestazione clinica e la diagnosi la si fa con l'elettrocardiogramma parleremo di ciannellopatia domani si parlerà di cutilungo si parlerà di brugada si parlerà di ripolarizzazione precoce vorrei utilizzare gli ultimi due minuti per parlare della cuti breve cuti breve che cosa ci dice questo elettrocardiogramma che cosa ci ha detto questo elettrocardiogramma è un cuti talmente breve che vuol dire che i periodi refrattari di questo soggetto sono estremamente corti se sono estremamente corti a livello ventricolare possono permettere a delle estrasistoli molto precoci di arrivare se questo succede che cosa vuol dire che questi pazienti possono andare estremamente facilmente incontro a morte improvvisa l'elettrocardiogramma in questi pazienti cosa ci dice quando hanno fibrillazione atreale intanto che quella non è una fibrillazione atreale quello è un flutter atreale a una velocità atreale che si incontra soltanto nei pazienti con cuti breve un pp minimo di 150 millisecondi 400 battiti al minuto regolare di movimento dell'atrio quindi ci dice e lo studio elettrofisiologico ce lo conferma che questi soggetti possono avere più facilmente fibrillazione atreale abbiamo definito in passato quali erano i criteri per short cuti abbiamo definito anche che cosa fare dal punto di vista terapeutico come per tutte le altre cianelopatie circa il 50% dei soggetti un po' meno del 50% è sintomatico e in quel caso c'è poco da discutere prima defibrillatore classico oggi defibrillatore sottocutaneo ma il vero problema delle cianelopatie sono gli asintomatici quanto abbiamo gli asintomatici che cosa possiamo fare e guardate come l'elettrocardiogramma ci ha aiutato anche in questo caso abbiamo testato vari farmaci finché non abbiamo trovato il farmaco il più vecchio la chinidina che normalizzava l'intervallo QT non solo ma ci permetteva di non avere più fibrillazione ventricolare indotta abbiamo usato l'idrochinidina come sono andate le cose bene nessuno è morto ma purtroppo il 32% dei soggetti non ha tollerato la chinidina per effetti collaterali allora c'è qualcosa di nuovo anche a questo riguardo sì ci siamo detti ma forse l'occhio umano non riesce a vedere tutto quello che una macchina mi potrebbe dare abbiamo misurato una serie di intervalli abbiamo provato a calcolarli e provato a calcolarli impossibile ci siamo detti se un banale telefonino è in grado di fare tutte queste misurazioni forse un computer riesce a fare di più un grande computer riesce a fare di più abbiamo dato a questa macchina tutti i dati elettrocardiografici e gli abbiamo detto di tirarci fuori eventuali parametri che ci permettessero di identificare i pazienti a rischio e questo è il risultato bene concludo dicendo cosa a 120 anni dalla scoperta dell'elettrocardiogramma rimane la metodica fondamentale più semplice da usare per il cardiologo non solo si sta aprendo una nuova era quella dell'intelligenza artificiale che ci permetterà di vedere quello che l'occhio non è stato in grado di vedere o di comprendere fino ad oggi e con questo anticipo la sessione che seguirà sulla intelligenza artificiale grazie grazie se noi sopravviviamo a questa sterilizzazione se sopravviviamo a questa sterilizzazione inviterei anche i discussant sulla sull'arri sull'arri insieme a Professor Patti il cattedratico di Novara e caro amico introduciamo questa sessione per me affascinantissima come già diceva prima Fiorenzo l'intelligenza artificiale e la malattia cardiovascolare è una rivoluzione analitica prospettica valutativa che ci permette con strumenti che conoscevamo benissimo di avere delle risposte ben ben diverse Giuseppe grazie buongiorno a tutti un ringraziamento al Professor Rinaldi al Professor De Ferrari e a tutto il board scientifico che anche quest'anno si è caratterizzato da un programma straordinario per questo evento sicuramente di riferimento per tutta la cardiologia italiana è un piacere per me coordinare insieme all'amico Sebastiano Marra questa sessione proiettata sul futuro quindi inizierei subito i lavori parliamo per quanto riguarda la prima relazione di machine learning in cardiology invitiamo Marco Agostino De Riù a tenere la sua relazione 15 minuti buongiorno a tutti buongiorno a tutti il mio nome è Marco De Riù io sono Professor Associato presso il Dipartimento di Meccanica Ingegneria Meccanica Ero Spaziale al Politecnico di Torino e mi occupo anche di intelligenza artificiale applicata alla medicina in quanto sono di ingegnere allora in questa presentazione cercherò di darvi qualche indicazione su quello che è l'utilizzo di queste tecniche nell'ambito della medicina di precisione in particolare con applicazioni in cardiologia anche se non mi soffermano molto sulla parte clinica delle applicazioni che verrà trattata sicuramente molto meglio di quello che io potrei fare dopo però cercherò di darvi qualche indicazione su come funzionano questi metodi in maniera che queste indicazioni possano guidarvi per chi magari ancora non è avvezzo diciamo non ha utilizzato questi metodi possono guidarvi anche la comprensione di quello che vedrete dopo degli outstanding works studies che vi verranno presentati dopo parleremo di artificial intelligence machine learning e deep learning vedremo diciamo che sono dei campi della scienza correlati vedremo qualcosa sullo stato dell'arte nei preditori in cardiologia e quindi dai preditori tradizionali al machine learning e poi vedremo qualche applicazione con attenzione diciamo al rischio cardiovascolare visto come diciamo comorbidità quindi qualcosa che magari si modifica in pazienti che hanno altre patologie e che quindi in qualche modo per questo tipo di pazienti come per esempio i pazienti reumatologici i discord tradizionali che vengono utilizzati magari funzionano meno bene parliamo anche di limite intrinseco sui data set cioè il machine learning scusi il machine learning funziona sempre quanto ha senso andare a vedere la sensitività la sensibilità l'accuratezza c'è chi dice 95 97 da cosa dipende a volte dipende dal data set esiste un modo per capire subito anziché provare infiniti metodi machine learning prima di capire qual è quello buono e poi parleremo di qualche applicazione innovativa che non c'entra con i preditori ma che è quello che probabilmente sta succedendo domani o che in realtà sta già succedendo c'è la creazione di dati sintetici l'uso dei federated learning cioè la possibilità di non far uscire i dati dagli ospedali e trainare gli algoritmi dentro gli ospedali in maniera che non escano i dati cosa fondamentale e poi il natural language processing cosa possiamo fare per interpretare una cartella per usare un computer per interpretare una cartella clinica per esempio o un referto oppure diciamo per creare un'assistenza vocale che senta diciamo come sta il paziente da casa queste sono le cose che vorrei farvi vedere allora molto velocemente lo scopo dell'artificial intelligence è quello di sviluppare dei sistemi intelligenti che abbiano delle abilità cognitive ci sono diverse definizioni che lascio in queste slide che vi potrete guardare sono molto interessanti perché in qualche modo parlano di automazione dei sistemi che devono di questi sistemi artificiali che devono in qualche modo imitare il pensiero umano ma anche diciamo lo studio di tutti quei metodi tutti quegli algoritmi che servono in qualche modo per ricostruire il modo con cui noi percepiamo ragioniamo e poi agiamo ok il machine learning in qualche modo è un sottocampo è un sottofield è un sottoinsieme all'intelligenza artificiale insieme al deep learning ed è il modo in cui noi diciamo costruiamo un algoritmo che diciamo fa un task per il quale non è stato realmente programmato cioè impara dei dati a fare qualcosa per cui noi non l'abbiamo programmato tipicamente diciamo i filtri spam funzionano utilizzando l'intelligenza artificiale si adattano anche a come noi scartiamo la posta e piano piano imparano ora questa slide è molto importante perché vi fa vedere qual è la vera differenza nell'artificial intelligence rispetto a quelli che sono i modelli che noi utilizziamo o che abbiamo utilizzato o che sono stati utilizzati finora o fino a qualche anno fa e ancora vengono utilizzati e sono molto utili c'è un approccio meccanicistico contro l'approccio machine learning in realtà i due approcci devono essere complementari e non diciamo contrapposti l'approccio meccanicistico in realtà è un approccio che si basa sulla scrittura di regole basate sul fatto che noi abbiamo capito la fisica del sistema se noi abbiamo aperto la scatola e conosciamo come funziona il sistema a questo punto una volta che abbiamo studiato il problema siamo in grado diciamo dato un input di analizzare quest'input all'interno del nostro sistema di equazioni o del nostro algoritmo eccetera e fare la previsione di un output la differenza con il machine learning è che fondamentalmente noi non apriamo mai questa scatola non conosciamo come è fatta la fisica all'interno e il sistema impare costruisce un algoritmo basandosi sui dati quindi nella realtà dei fatti l'output di un sistema di machine learning è il modello stesso mentre invece l'output di un sistema meccanicistico è la previsione poi noi utilizziamo la previsione del machine learning ma il vero output è il modello e nasce perché analizziamo i dati quindi i dati devono essere tanti il deep learning è un po' diverso dal machine learning anche se in realtà è molto correlato si basa su questi network neurali e in particolare sull'utilizzo di reti di questi neuroni artificiali che sono in qualche modo costruiti per somigliare o per avere alcune caratteristiche del neurone biologico cioè ha una funzione interna che in qualche modo è alimentata da una serie di parametri che sono i dati di input le caratteristiche del paziente e poi dei pesi che caratterizzano questi dati all'interno dell'equazione se i dati sono fatti in un certo modo il neurone può attivarsi in qualche modo dare un segnale fondamentalmente quindi all'interno di reti molto complessi di questi neuroni i dati possono essere analizzati e possono in qualche modo fuoriuscire delle predizioni non andiamo troppo in dettaglio perché sicuramente il learning profondo è qualcosa di molto complesso soprattutto nella sua parte matematica un'altra cosa che vorrei dire prima di andare su questo punto è che la maggior parte degli oggetti che vengono utilizzati in machine learning sono costruiti con una matematica che è molto complessa che si basa ad esempio sulla teoria dei giochi e che non è necessario che venga compresa cioè questi oggetti si possono anche usare per come sono fatti e costruire e essere usati per costruire delle rappresentazioni dei modelli di sistemi quindi noi abbiamo degli oggetti dei tool che fanno delle cose che non necessariamente dobbiamo conoscere perfettamente però se sappiamo come mettere insieme e sappiamo più o meno che cosa fanno possiamo utilizzarli per quello che è il nostro scopo cioè fare per esempio la predizione di un evento di un rischio cardiovascolare esistono molti moltissimi voi li conoscete meglio di me preditori di rischio il Framingham il Currisk qualcuno l'abbiamo visto nelle presentazioni precedenti che sono diciamo anche molto performanti però hanno qualche limite quali possono essere i limiti ma ce ne sono diciamo alcuni che in parte sono riportati in questa slide e non necessariamente diciamo queste caratteristiche sono delle caratteristiche che in qualche modo rappresentano perfettamente gli algoritmi tradizionali vorrei tirarne fuori uno che è molto importante il problema uno è il problema di trovare le relazioni che in qualche modo si inferiscono anche dopo l'utilizzo di questi cioè il clinico che capisce quali sono le relazioni tra i parametri non l'algoritmo l'algoritmo in generale pesa dei fattori di rischio e da una probabilità di rischio basata su in qualche modo una statistica non lineare su dei dati ma il problema è che molto spesso questi algoritmi non sono molto buoni nella stratificazione non ci aiutano a stratificare il paziente e questo è un problema e questi sono due problemi che in realtà vengono parzialmente risolti dagli algoritmi di machine learning ce ne sono moltissimi tipi che sono usati in questi anni voi verrete sommersi da algoritmi di machine learning che verranno pubblicati su qualsiasi giornale già succede e diciamo per i prossimi anni quindi ogni giorno ci da un nuovo algoritmo di machine learning che farà qualcosa però in qualche modo la maggior parte di questi algoritmi possono essere lineari possono essere algoritmi come il K Panier's Neighbors che è un algoritmo di clusterizzazione cerca caratteristiche di vicini e li unisce per somiglianza un vicino è un paraziente che ha caratteristiche simili a un altro paziente oppure ci sono modelli probabilistici modelli che utilizzano dei campioni nel dataset che escludono tutti i campioni che non migliorano il potere proiettivo del modello alberi decisionali e poi modelli di reti neurali ce ne sono di diversi tipi ognuno ha i suoi limiti fondamentalmente ci sono anche diversi lavori adesso ne ho preso quattro a caso che dove sostanzialmente si cerca in qualche modo di fare la predizione di un rischio per esempio il rischio di infarto piuttosto che il modeling dei fattori di rischio di ipertensione eccetera dove in generale il modus operandi è sempre lo stesso e più o meno diciamo scusate vado a prenderlo qui ok non è presente questo presente perché la presentazione è stata aggiornata nessun problema il modo è sempre questo però c'è un training dataset con i dati del paziente esiste un algoritmo in machine learning in qualche modo guarda questo training dataset in generale c'è un approccio supervisionato può essere anche non supervisionato ma non ne parliamo in questo approccio supervisionato noi diciamo all'algoritmo guarda questo set di pazienti ha avuto l'evento questo set non l'ha avuto e l'algoritmo inizia diciamo a provare a predire dei pazienti di questo dataset e controlla sia indovinato o meno questo è un approccio supervisionato e ogni volta lui si costruisce un'equazione che sarà un insieme di correlazioni non lineari o lineari ma in generale non lineari di questi di questi parametri con dei pesi e aggiusta i pesi di questa grande sommatoria che fa di questi fattori di rischio potrebbero essere il diabete a fumatore che è donna uomo eccetera e a un certo punto migliora sempre di più la scrittura di questa funzione finché non raggiunge diciamo un ottimo nel predire quel training dataset dopodiché noi lo testiamo su un dataset di cui lui non conosce l'evento ma noi sì e quindi valutiamo le performance quali sono le performance che valutiamo la sensitività c'è l'abilità di capire se il paziente avrà l'evento la specificità c'è l'abilità di capire o di evitare di dire che qualcuno avrà l'evento quando non ce l'avrà molto importante la specificità noi non vogliamo trattare un paziente che non avrà l'evento perché ci sono costi più alti e perché ci sono effetti collaterali dei farmaci e allora cosa può fare quindi si valutano queste ROC vedrete queste curve che sono delle curve che sono specificità uno meno specificità e sensitività che ci raccontano come va quindi più questa curva è una specie di onda quadra quindi parte vale sempre zero e poi a un certo punto per valori vale sempre zero sulla scissa per valori qualsiasi dell'ordinata e poi per una scissa maggiore di zero poi vale sempre uno fondamentalmente non è fatto in questo modo qua oppure diciamo può essere random quindi la diagonale se sta in mezzo tra queste due è un algoritmo molto buono questo è un esempio in cui abbiamo cercato di costruire un algoritmo per pazienti reumatologici quindi un dataset solo di pazienti reumatologici dove il Framingham o altri non funzionavano bene perché questi pazienti hanno un rischio più o meno del 15% più elevato e abbiamo scoperto che gli algoritmi machine learning anche su dati dell'ordine di 2000 pazienti funzionano già meglio degli algoritmi tradizionali sia perché non hanno questo sbilanciamento sensitività specificità ma almeno ci danno dei valori che sono simili sia perché di base hanno sensitività migliori fondamentalmente ma la cosa più importante è che ci dicono quali sono i pesi delle caratteristiche cioè ci dicono che per esempio per un paziente è che la caratteristica psoriasica e i pesi sarà la systemic blood pressure l'air rate l'age questi sono i primi tre i tre più importanti ora se questi tre quattro cinque più importanti non sono quelli presenti nel Framingham è ovvio che il Framingham sbaglia perché non ci sono lì dentro quindi può aiutarci a capire come costruire nuovi algoritmi ok ora andando avanti che cosa ci aspettiamo quindi vogliamo solo fare preditori di rischio con il machine learning è veramente questo il problema è questo che ci aspettiamo nella cardiologia nei prossimi cinque anni in realtà no abbiamo altri problemi problemi relativi al fatto che abbiamo moltissimi dati che in qualche modo molto spesso sono frammentati e di per sé non funzionano su altre popolazioni di pazienti allora come facciamo la scarsa di dati può essere in qualche modo migliorata con l'utilizzo del machine learning per generare nuovi dati oppure possiamo utilizzare il cosiddetto federated learning che ci permette in qualche modo di sostanzialmente andare a trainare questi algoritmi direttamente all'interno degli ospedali allora faccio un esempio allora il problema a base è la privacy dei dati quindi quello che noi assolutamente non vorremmo fare è prendere i dati dei pazienti e portarli fuori metterli in comune con altri eccetera quello che sta nascendo oggi questa nuova idea è quella di importare l'interno degli ospedali gli algoritmi e tirare fuori soltanto i pesi degli algoritmi dall'ospedale solo le pendenze di queste funzioni dopodiché queste pendenze possono essere utilizzate con qualsiasi altro dato questo è più o meno il modo che utilizza google maps per fare diciamo le mappe fondamentalmente ora l'ultima cosa di cui vi volevo parlare è la generazione di dati ok perché è importante la generazione di dati primo perché in generale nelle popolazioni abbiamo sempre dei buchi cioè noi abbiamo una rappresentatività che dipende dal luogo è stato spiegato molto bene nelle lezioni prima ora il problema è come facciamo dai dati che abbiamo a considerare di capire come generare dei dati sintetici che magari possono essere utilizzati per trainare nuovi algoritmi esistono dei metodi di cui sentirete molto parlare nei prossimi anni e molto presto che si chiama generative adversial networks che sono delle reti neurali che sono praticamente competitive hanno un generatore di dati e un discriminatore voglio farvi vedere solo questo esempio e poi chiudiamo il generatore è praticamente una funzione che genera da un rumore bianco dei dati la funzione ovviamente un po' costruita dei constraint e in questo caso genera facce ok genera delle facce all'inizio queste facce saranno completamente storte eccetera dall'altra parte c'è un discriminatore che ha anche come ingresso oltre le facce a caso generate dal generatore delle facce reali e il suo ruolo è solo discriminare e questa è una faccia reale e questa non è reale dopodiché c'è una back propagation dove si insegna al generatore che cosa è reale e quindi come imparare a imbrogliare il discriminatore alla fine si raggiunge un bilanciamento tra i due e quello che vedete in figura alla vostra destra sono facce che non esistono non esistono sono facce di persone che non esistono nel mondo ok allora pensiamo di fare la stessa cosa se vogliamo fare una sintesi delle immagini cliniche abbiamo la prima immagine che è una MRI vera la seconda è una fake CT generata e la terza è un MRI fake perché è generata dalla CT fake usando diciamo indicazione dell'MRI vera quindi ho costruito un MRI fake che è uguale adesso per il mio occhio che non capisco moltissimo è molto simile alla prima allora se noi vogliamo sintetizzare possiamo usare questi metodi per creare dei sistemi che supportino la decisione clinica gli sintetizzo il dato ok sta finendo il tempo adesso suona il gong e chiudo dicendo che il futuro è una mappa decisionale di questo tipo c'è uno sistema di supporto come un navigatore satellitare dove noi utilizziamo questi metodi insieme ai dati per capire quale può essere l'evoluzione della patologia di un paziente insieme al clinico cioè facciamo quello che il professore ha appena spiegato però lo facciamo aiutandolo diciamo comprimiamo le informazioni gli forniamo più indicazioni e lo aiutiamo e lo supportiamo alla decisione clinica con data summarization ok data generation e integrazione dei modelli sia meccanicistici che machine learning machine learning dai dati impariamo qualcosa meccanicistici usiamo la fisica apriamo la scatola spieghiamo come funziona il sistema questa deve essere l'idea di supporto al clinico in maniera che sia anche utile ecco in 15 minuti ho provato a darvi qualche informazione qualche nome grazie grazie professor De Rio la sua relazione è veramente eccellente mi fa sentire piccolo 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 ma mi dà la speranza che gli strumenti che ci state dando ci danno come dire una possibilità enormemente maggiore di essere più puntuali e precisi anche con strumenti semplici grazie e adesso Gaetano eccolo qua professor De Ferrari ci parlerà di un'applicazione dell'intelligenza artificiale nella sindrome coronarica acuta grazie Gaetano grazie a voi prima di parlare è una cosa che mi è venuta in mente mentre il professor De Rio parlava abbiamo problemi tutti di budget per cui non raggiungiamo il numero di pazienti sufficienti per fine anno da curare chiediamo a lui di avere 100 fake patient prima di dicembre e il problema è risolto se ci sono queste facce fake perché non avere un paziente fake da curare e migliorare il budget detto questo invece vi parlerò di pazienti veri pazienti con sindrome coronarica come voi potete vedere il numero di articoli che parlano di intelligenza artificiale questo è scopus mettendo intelligenza artificiale farei partire il mio cronometro se volete intelligenza artificiale sindrome coronarica acute tutti i termini vedete questo aumento enorme di lavori proprio negli ultimi 5-6 anni la stessa cosa se mettiamo questi termini solo come keywords i numeri sono 20 volte inferiore ma vedete questo aumento importante di lavori negli ultimissimi anni questa recentissima review del settembre del 21 quindi due mesi fa fa vedere i principali studi sull'intelligenza artificiale nelle sindrome coronariche da partire da De Carvaio di qualche anno fa e per finire con Fabrizio D'Ascenso qui all'ultimo l'ultima riga last but not least e come potete vedere queste si occupano essenzialmente di due argomenti il primo è migliorare con l'intelligenza artificiale la diagnosi il secondo argomento è migliorare con l'intelligenza artificiale la prognosi di questi pazienti e vi presenterò un paio di esempi di cui all'una delle due situazioni il primo è forse il più recente degli articoli sulla diagnosi automatica di sindrome coronariche acuta dall'elettrocardiogramma con l'intelligenza artificiale di questi autori cinesi impronunciabili che utilizzano due tipi di database utilizzano un database pubblicamente disponibile che si chiama PTBXL per training e validation questo database ha 21.837 ECG di cui 5.300 sono infarti sono ECG a 12 derivazioni di 10 secondi registrati a 500 hertz poi per il il testing set quindi come sapete c'è training validation e testing se vogliamo fare uno studio completo come testing set utilizzano dei dati veri della Chapman University dove lavorano e dello Shawxing Hospital dove pure lavorano gli autori sono 10.000 elettrocardiogrammi curiosamente ho visto analizzati cioè diciamo digitalizzati a 100 hertz ogni ECG ha una matrice di 12 per 5.000 perché sono 500 hertz per 10 secondi per il dataset originale quindi 4.096 diciamo punti c'è un filtraggio che vi ho messo qui che non è specificato cosa sia e mi sembra un limite dello studio e poi c'è anche il tentativo che vedremo quanto efficace di distinguere tra infarto antirossetale anteriore antilaterale laterale inferiore ma non vi sono infarti posteriori in realtà perché dicono di averne troppo pochi questo è un esempio di elettrocardiogramma che loro mettono nella pubblicazione per avere un'idea di cosa sia il loro elettrocardiogramma della derivation direi abbastanza convenzionale con un S.T. sopra anteriore queste sono le curve ROC come potete vedere abbiamo una curva ROC con un'area ovviamente molto molto alta 0.96 per il training 0.94 per la validation e 0. quasi 0.98 in verde per il testing vedete che sono ovviamente meno numeri perché le indentature sono più più grossolane quindi dei risultati sicuramente importanti per la definizione parliamo qui però di definizione di STEMI S.T. Elevation fra precisione e sensitività che può essere utilizzata in maniera efficace per descrivere l'abilità dell'algoritmo soprattutto quando è sbilanciata l'incidenza del fenomeno quindi quando le quattro caselle dei falsi positivi falsi negativi veri positivi veri negativi non sono bilanciate fra loro e vedete che questi sono valori decisamente molto buoni precisioni cioè valori preditivi positivi superiore all'80% sensibilità fra l'80 e il 95 specificità intorno al 95% con F1 corrispondenti sempre superiore all'80% quindi decisamente buoni in precedenza era stato analizzato fra i vari studi questo importante pubblicato su Nature nel 2020 con elettrocardiogrammi veri di pazienti al primo contatto medico quindi questo è più importante non è un database finto sono gli elettrocardiogrammi fatti a casa del paziente quando l'ambulanza va a casa del paziente o se il primo contatto medico è in ospedale in pronto soccorso in questo studio come potete vedere i numeri però sono ben più bassi abbiamo una corte di 745 pazienti di training e testing e una corte di validazione esterna di 500 pazienti quindi numeri decisamente più bassi l'età è più giovanile e vedete che il dolore toracico come ci si attende per un algoritmo che vuole andare a cercare l'infarto la sindrome cronarica acuta ovviamente il dolore toracico c'è nella maggioranza delle persone abbiamo ECG prevalentemente ritmo sinusale ma anche in fibrillazione atreale anche in pacing vedete e vi sono in media circa 17-18% di questi pazienti con dolore toracico hanno poi una sindrome cronarica acuta confermata ed è quelli che l'intelligenza artificiale dovrebbe trovare cosa succede che da questa corte inizialmente estraggono con l'intelligenza artificiale 554 caratteristiche specifiche di elettrocardiogramma che poi con un processo di riduzione alle caratteristiche rilevanti vengono ridotti a 65 e questi hanno tre classificatori di machine learning che come vedete sono la logistic regression questo lo faccio vedere per gli ingegneri un gradient boosting machine e un artificial neural network quindi credo un deep learning potremmo dire le curve rock sono buone ma non buone come le altre questi sono dati veri vedete una OC di 0,77% per quanto riguarda la prima corte cioè il training e 0,79% per quanto riguarda il testing in media è interessante vedere come questo modello poi di fusione che è la combinazione di questi tre modelli che vi ho descritto prima che quindi è un super modello diciamo supera nettamente l'ECG del cardiologo qui lo chiamano esperto ma è un cardiologo intermedio di pronto soccorso quindi non lo definirei veramente esperto supera l'ECG automatico non vorrei parlare male ma di un'azienda olandese forse è meglio che non dica il nome che è una diagnosi automatica dell'elettrocardiogramma equivale praticamente all'utilizzo dello score heart in cui non solo c'è l'ECG come sapete ma c'è la storia c'è la troponina ci sono i fattori di rischio c'è l'età del paziente quindi il solo ECG con l'intelligente artificiale è pari a un sistema di rischio assai più complesso se andiamo a vedere sulla sindrome non coronarico non ST la differenza è un pochino più bassa cioè perdiamo 4 decimali da 0,82 a 0,78 perché predire un non ST elevation è chiaramente più difficile che predire una sindrome coronarica acuta in generale in cui ci sono gli ST elevation che come abbiamo visto sono molto facili da predire da un'intelligenza artificiale se andiamo a vedere la differenza fra il modello dell'intelligenza artificiale il cardiologo e l'apparecchio automatico vedete che la sensibilità è molto diversa molto superiore 77% contro 40% del cardiologo e 25% dell'ECG automatico questo vale anche per il non ST in cui la capacità dell'ECG automatico di predire un infarto non STEMI è solo del 12% quindi questo aumenta al 72% con l'intelligenza artificiale quindi senza dubbio un campo di applicazione direi di interesse andiamo adesso a vedere due o tre lavori di predizione invece del rischio il primo che vorrei farvi vedere non è in pazienti con sindrome coronarica acuta ma è per predire la sindrome coronarica acuta in pazienti ancora sani quindi soggetti a rischio che farebbe piacere al dottor Marra esattamente quello che lui diceva è una corte di questo studio prospettico che si chiama Eisner in cui pazienti senza malattia nota ma con fattori di rischio fanno un attack un attack complessiva per la valutazione del loro rischio in questo studio voi vedete come spiegava il professor De Rio che si identificano quelli che sono i fattori che pesano di più nel determinare l'algoritmo prognostico dello studio vedete che questi sono i 20 fattori che pesano di più è interessante notare come alcuni sono clinici l'età o un punteggio di rischio SVCD altri sono di imaging questo è il calcio il calcio percentuale il numero di stesioni coronariche il calcio sulla orta gli adipociti il volume del tessuto adiposo all'attacca toracica sono tutti i preditori di imaging e vedete la sequenza di importanza dal più importante al meno importante che è il sesso che praticamente quasi non influisce sulla prognosi di questi pazienti che curva ROC costruiamo vedete costruiamo una curva ROC in cui il machine learning ha una priorità dell'82% che è superiore alla priorità del calcio all'attacca che è superiore alla priorità del calcolatore di rischio dell'SCVD che è un calcolatore abbastanza efficiente se andiamo a definire il terzile della popolazione che è a rischio maggiore vedete 700 pazienti su 1900 guardate la differenza di rischio è veramente enorme in questi soggetti quelli che sono a rischio basso e sono due terzi della popolazione praticamente non hanno mai eventi e quelli che sono nel rischio alto hanno eventi tenete presente questa scala arriva a 80 però vuol dire avere un 13% di eventi a 15 anni una capacità di predire a lunghissimo termine credo che sia veramente un'applicazione interessante per predire il rischio futuro l'altra cosa è che possiamo applicarlo al singolo individuo guardate che carino questo signore di 62 anni che non ha avuto eventi nei 15 anni successivi ha tutte freccettine blu che riducono rispetto al rischio medio del 4% in 15 anni poche freccettine rosse e ha un rischio totale di 1% in 15 anni al contrario questa signora ha un sacco di freccettine rosse quindi il suo rischio non sarà del 4% ma aumenta addirittura fino al 22% in effetti poi la signora ha un bel infarto dopo 8 anni di follow up in questo studio ora nei pazienti invece che hanno sindrome coronarica acuta c'è differenza fra fare un machine learning ai metodi tradizionali vedete in questo studio su una popolazione di trial clinico di Michael Gibson voi vedete che per quanto riguarda gli eventi coronarici in questo caso il machine learning in realtà come potete vedere 73 e 71 migliora di pochino ma migliora in maniera significativa quello che è un modello di regressione di statistica tradizionale un piccolo miglioramento ma statisticamente presente in questo studio però non c'è nessuna differenza fra statistica tradizionale e machine learning per la predizione degli eventi di sanguinamento un altro esempio invece in questo studio molto recente Scientific Report 2021 coreano è una popolazione vera mentre l'altra è popolazione di trial quindi sono sicuramente popolazioni diverse abbiamo una predittività come poi in primario della mortalità in ospedale e a 12 mesi abbiamo ben 15.000 pazienti con infarto stemi e non stemi che vengono poi seguiti nel corso del follow up qual è la predittività di tutti questi sistemi beh voi potete vedere che anche in questo caso tutti questi sistemi di machine learning random forest elastic net eccetera eccetera non sono poi diversi dalla predittività di grace 0835 0826 per lo stemi quindi non outperformano diverso il non stemi dove invece questi sistemi intorno allo 086 outperformano formano il grace che è il migliore dei sistemi tradizionali a 081 quindi in questo caso funzionano nel non stemi ma non nello stemi e questo si può vedere anche da questi numeri che sono quelli che vi ho appena riferito con tutti i valori precisi di precisione questo vale sia per lo stemi che per i non stemi come vi ho detto per i non stemi c'è questa differenza abbastanza importante tra i metodi machine learning e i metodi tradizionali qui in basso differenza che non si verifica in questo data set per lo stemi l'ultimo studio di cui vorrei parlare naturalmente lo studio fatto in casa con il contributo di molte delle persone che sono sedute qui compreso ovviamente il professor Di Rio e gli altri colleghi seduti qui sul palco che è stato il primo direi lavoro importante sull'uso del machine learning per dire la prognosi nei pazienti dopo infarto miocardico che molti di voi lo sanno abbiamo avuto la fortuna di pubblicare su Lancet alcuni mesi fa si trattava di una popolazione molto importante 20.000 pazienti di corte di derivazione 3.300 di derivazione esterna in cui come potete vedere vi è una storia abbastanza tipica di sindrome coronarica acuta i pazienti avevano sia stemi 56% che non esti ACS 43% è una tipica popolazione ben trattata clopidoro prasol eticagoro statine a tutti e questo è il follow up abbiamo identificato quindi circa 3% di eventi di mortalità e di reinfarto e di sanguinamento a un anno e la stessa cosa più o meno è una corte di validazione esterna quindi la percentuale non è tanta ma i numeri sono sufficienti per fare un'analisi 600-700 eventi molto più degli studi precedenti questi sono i valori gli otto fattori principali a seconda come vedete dell'end point è diverso il peso di ogni cosa per esempio per la morte totale il peso maggiore è la frazione di eiezione e abbiamo 25 nel modello completo e 8 fattori nel modello ridotto e queste sono le curve ROC per le tre cause morte totale infarto e bleeding vedete le AUC sono molto buone 91 88 e 87 quindi senza dubbio un ottimo risultato direi il modello è anche calibrato e ci consente arriverei a quest'ultima slide ci consente di identificare pazienti a rischio questo è il net clinical benefit se sotto prevale l'emorragia se sopra prevale il rischio coronarico come vedete con una certa sorpresa in questo studio fra i decili di rischio coronarico di rischio scusate emorragico che aumentano da sinistra a destra se un paziente ha un rischio ischemico molto alto però è il decile superiore avrà sempre più rischio di infarto che rischio di emorragia anche fino all'ultimo fattore dove il rischio di emorragia è il più alto possibile diverso dal discorso per invece chi è nel rischio intermedio dove inizia a pagare prezzo già negli ultimi due decili e per chi è a rischio basso probabilmente rischio è basso in ogni caso e quindi primum non no cioè bisogna essere prudente con la terapia antiaggregante le conclusioni quindi che vorrei dire sono queste gli approcci di machine learning si utilizzano sempre di più sia per la diagnosi che per la prognia di sindrome coronariche acute gli ECG letti con machine learning sono ormai decisamente meglio delle letture commerciali e meglio anche del cardiologo mediamente esperto sarebbe divertente fare una gara con un cardiologo di grande esperienza come l'ECG e Bobby come gli scacchi e Bobby Fischer la predizione con machine learning del rischio mostra un'accuratezza sempre maggiore ma non è tutto oro quel che luccica come si diceva proprio in una slide precedente ci sono spesso degli studi che mostrano che l'approccio di machine learning e l'approccio di statistica tradizionale hanno una capacità predittiva equivalente in varie situazioni cliniche e bisogna avere alti dati per darli all'algoritmo tanti dati e dati precisi e questo è un problema per l'Italia ed è interessante il concetto della federated learning in ogni modo come rassicurazione per chi inizia oggi la carriera di cardiologia per i nostri specializzanti che sono qui un buon cardiologo una buona cardiologa sarà sempre il ruolo principale machine learning l'aiuterà ma non lo sostituirà mai grazie 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 professor De Ferrari per questa splendida messa a punto anche di proiezione per il futuro ci sarà modo chiaramente di discutere alla fine delle presentazioni tutti i concetti che magistralmente Gaetano ci ha posto è un piacere per me introdurre l'ultimo relatore della sessione il dottor D'Ascenso non più astro nascente in quanto è un astro già nato che ci parlerà nello specifico dell'intelligenza artificiale applicata alla TAVI prego Fabrizio ringrazio Giuseppe per la per la introduzione e i moderatori e gli organizzatori per l'invito a questo congresso allora il titolo della mia presentazione è l'utilizzo potenziale dell'intelligenza artificiale nei pazienti sottoposti a TAVI questi sono i miei conflitti di interesse partiamo da alcuni punti fermi anche se già un pochettino introdotti prima dal professor Rinaldi in un follow up non così lungo noi sappiamo molto bene come la TAVI è non inferiore alla cardiochirurgia nei diversi stratificazioni di rischio nell'alto basso e medio rischio sempre tenendo conto nell'età sia dell'alto che del basso che nel medio rischio che rimane comunque molto alta intorno ai 73 75 anni questa affermazione tuttavia non può essere interpretata in maniera monolitica perché poi vanno visti singolarmente i pazienti noi sappiamo molto bene come ci sono tutta una serie di comorbidità non cardiovascolari questa recente review dell'europeo ne mosse più importanti la BPCO ossigeno e non ossigeno dipendente l'insufficienza renale cronica citando anche una volta il nostro gruppo e la fragilità comunque venga classificata che impattano sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita dopo la TAVI e abbiamo poi anche tutta una serie di problematiche strettamente cardiovascolari la classificazione delle stenose aortiche lo fluolo gradent la presenza di ipertensione polmonare la presenza di insufficienza mitralica che di nuovo impattano sulla sopravvivenza e sugli outcome che noi otteniamo dopo la TAVI questo appunto è un po' il riassunto di quello che vi dicevo prima cioè in cui i pazienti è stratificati in base alla comorbidità la presenza di comorbidità importanti questo è il primo partner in qualche modo inficia il beneficio della nostra sostituzione valvolare per via percutane e tutti i benefici della TAVI hanno tutta una serie di ostacoli che noi dobbiamo cercare di prevedere e di minimizzare per arrivare al massimo beneficio possibile l'altro aspetto molto importante sono le complicanze questa review è recente mostra le incidenze più attuali sappiamo molto bene che l'evoluzione tecnologica è stata estremamente importante che ha portato all'utilizzo di valvole che necessitano di introduttori di scite di dimensioni minori le complicanze vascolari rimangono comunque intorno al 6-8% le complicanze elettriche quindi che necessitano di impianti di pacemaker dipendono dal tipo di valvola ma rimangono intorno al 10% l'occlusione coronarica è meno dell'1% e ovviamente le complicanze pesano in maniera diversa secondo il tipo di paziente una complicanza vascolare su un paziente ad alto rischio avrà un effetto detrimentale sulla pronosi importantissimo ma se noi ci portiamo verso il basso e verso il medio rischio allora anche l'impianto di pacemaker oppure l'insufficienza ortica postavi può avere un impatto negativo sulla sopravvivenza e sappiamo molto bene come tutti gli score che noi attualmente utilizziamo hanno una performance molto bassa come mostrato prima da Gaetano l'intelligenza artificiale ci può aiutare perché gli score non superano quasi mai il 75 79 come accuratezza quindi siamo veramente molto molto vicini in qualche caso addirittura inferiori al 60 quindi quasi vicini alla casualità al famoso lancio della monettina e in che cosa l'intelligenza artificiale ci può aiutare ci può aiutare perché ci permette una caratterizzazione del fenotipo dei pazienti questo è uno studio secondo me molto bello pubblicato recentemente su Jack in cui questi autori tedeschi hanno arrolato 366 pazienti con un'età media di 80 anni con un euroscore elevato di 13 e di questi pazienti voi vedete che li hanno estrapolati da una corte di dimensioni decisamente maggiori avevano sia dati ecocardiografici sia dati di cateterismo adesso il cateterismo adesso non viene effettuato normalmente prima di una valutazione per una TAVI ma in questo caso gli autori lo avevano hanno effettuato come descritto prima da Marco un clustering non supervisionato qua vedete bene la correlazione che gli autori hanno trovato fra i dati ecocardiografici e i dati del cateterismo destro e hanno creato quattro cluster quindi quattro raggruppamenti di pazienti i primi due sono quelli più numerosi gli altri due sono quelli con un numero minore di pazienti le caratteristiche di base a parte l'ipertensione erano relativamente simili vediamo come il filtrato mostra un trend nei primi due gruppi è superiore e poi diminuisce mostra come c'è una percentuale decisamente inferiore di BPCO e di FA nei primi due cluster che invece è più alta negli altri due queste sono le caratteristiche di base questo dato secondo me è molto molto interessante si vede come il gradiente medio nei primi due cluster è più elevato mentre invece negli altri due è decisamente più inferiori e l'autocardiaco è più alto così come la funzione ventricolare sinistra e più alto nei primi due cluster è decisamente inferiore negli altri due quindi presumibilmente un gran numero di pazienti con un alloflore o allogreden sono concentrati negli ultimi due cluster così come qua non ve l'ho sottolineato perché sono tutti statisticamente significativi in tutti e quattro i cluster ci sono una differenza molto importante delle caratteristiche che noi abbiamo valutato al cateterismo destro o all'ecocardiografia della funzione del ventricolo destro vediamo come scusatemi la pressione polmonare media è decisamente più alta negli ultimi due cluster vediamo come le resistenze sono molto più elevate vediamo come il TAPSE e tutti gli altri indici di funzionalità del ventricolo destro sono decisamente diminuiti e gli autori hanno creato questi quattro cluster e poi sono andati a vedere l'impatto sulla sopravvivenza a un follow up tutto sommato lungo hanno trovato dei dati secondo me molto interessanti i dati erano potenziati per i due anni poi loro hanno prolungato il follow up a cinque anni si vede come è molto netta la differenza di sopravvivenza fra i primi due cluster verso gli altri due si passa da un 90% circa a un 77% a un 75% questa è un pochettino la figura riassuntiva in cui loro propongono questa possibilità di stratificazione del rischio cioè fondamentalmente nei primi due fenotipi in cui c'è una funzione ventricolare sinistra conservata non hanno difetti ventricolari e non hanno un'ipertensione polmonare quindi che ha già impattato sul ventricolo sinistro e ventricolo destro la sopravvivenza è molto buona negli altri due cluster in cui invece ci sono un'ipertensione polmonare che ha già impattato sul ventricolo destro e sul ventricolo sinistro la sopravvivenza diminuisce gli autori nella discussione fanno due spunti interessanti secondo me per la discussione e il primo dicono questo clustering non supervisionato ci ha permesso di superare le nostre ipotesi quindi ad esempio noi non sapevamo quali di questi pazienti avevano l'oflologradient e dicono un'altra cosa importante non abbiamo ricercato la causalità questa secondo me è una cosa che può essere sorprendente noi nella ricerca scientifica da anni da secoli in realtà cerca ha messo come fondamento il nesso causa-effetto gli autori dicono questo meccanismo ci permette in qualche modo di andare oltre e di cercare delle relazioni più complesse questa review di Topol in realtà come già accennato prima confronta un pochettino il machine learning l'intelligenza artificiale in cardiologia con il meccanismo di guida quello che lui sostiene è che la guida totalmente automatizzata totalmente svincolata dal nostro controllo dalla nostra esperienza dal nostro buon senso clinico non ha nessun valore fra virgolette probabilmente più dannosa che benefica mentre invece ovviamente ci vuole sempre il filtro del cardiologo e del clinico per cercare di interpretare i dati l'altro aspetto molto importante in cui l'intelligenza artificiale ci può aiutare sono gli score questo è un altro lavoro pubblicato su Jack due anni fa in cui gli autori hanno sfruttato questo enorme dataset istituzionale di TAVI effettuato ormai sei anni fa quindi dal 2012 al 2015 circa 10.000 pazienti con un'età media estremamente elevata 81 anni hanno vedete le complicanze sono alte circa ancora forse un pochettino di più di quelle che vi ho mostrato prima proprio perché appunto erano pazienti delle corti storiche delle TAVI e con questi quattro diversi metodi di machine learning la regressione logistica il graden boosting hanno ottenuto delle aree sotto le curve veramente importanti noi in cardiologia e in medicina non siamo abituati a vedere delle aree sotto le curve sopra il 90 il GRACE score che forse lo score che performa meglio aveva una validazione di 0,80 e sembrava un enorme successo in realtà tutti questi diversi metodi vanno sopra il 90 il 92% anche come intervalli di confidenza e qua sono mostrati di nuovo i fattori più rilevanti vediamo come quello che pesa di più è l'insufficienza ortica acuta ovviamente lo shock cardiogenico per arrivare all'arresto cardiaco e in qualche modo ha complicanze non cardiovascolari come la sepsi e anche le problematiche di disturbo e di stroke sono estremamente rilevanti e hanno un peso molto importante l'altro aspetto in cui in generale l'intelligenza artificiale può aiutare la TAVI può aiutare tutte le procedure interventistiche e l'aiuto nella pianificazione delle procedure questi pazienti sono tutti pazienti elettivi che vengono studiati in maniera estensiva con l'ecocardiografia con l'attacco in alcuni casi anche con la risonanza quindi noi abbiamo un enorme amount di informazioni che possiamo cercare di sfruttare in questo studio gli autori hanno arrolato 447 pazienti cui hanno effettuato un'attacco prima di effettuare ovviamente l'intervento della TAVI e hanno utilizzato il deep learning per predire l'area quindi questo è estremamente secondo me interessante hanno visto come l'intelligenza artificiale con il deep learning predice l'area in maniera estremamente simile a due osservatori esperti molto attenti e molto appunto esperti e questo fondamentalmente ha permesso un planning della procedura estremamente simile rispetto a due altri osservatori vedete bene sia come per le valvole balloon expandable che self expandable non ci sia stato un grosso cambiamento del tipo di diametro poi del tipo di TAVI che viene impiantata la stessa cosa qui abbiamo Umberto Morbiducci che se ne occupa è stata l'implementazione con l'intelligenza artificiale di tutte le metodiche di fluido dinamica e di simulazione per simulare l'impianto di una TAVI voi vedete bene come in questo caso gli autori hanno simulato due tipi l'impianto di due tipi diversi di valvole e come in un caso ci sia un'insufficienza ortica post impianto importante con tutto l'effetto detrimente sulla prognosi che vi ho mostrato prima mentre invece in questo caso un altro tipo di valvola permette un'insufficienza ortica decisamente meno importante e meno rilevante e anche in questo caso questo non è ancora più affascinante gli autori hanno confrontato la possibilità di impianto di due valvole evidenziando sempre implementando con l'intelligenza artificiale i punti di maggiore contatto e soprattutto l'avvicinanza col fascio di conduzione quindi con tutto quello che poi predice aumenta il rischio di pacemaker e tutto questo è possibile già con le tecniche di ricostruzione tridimensionali di fluidodinamica ma ovviamente può essere migliorato ancora di più con l'intelligenza artificiale questo anche molto molto bello sono andati a studiare con l'ATTAC la distribuzione del calcio prima della TAVI che può portare a tutta una serie di problemi da un infondi della valvola a un disturbo di conduzione in rari casi all'embolizzazione e hanno visto come sia quello che è successo nella realtà quindi quando poi hanno ripetuto un'ATTAC poi dopo la TAVI e sia quello invece che è stato previsto dal modello come la dislocazione del calcio il modello l'abbia previsto in maniera estremamente accurata e quindi questo di nuovo mi può portare a scegliere un tipo di protesi piuttosto che un altro e quindi questo è un pochettino quello in cui l'intelligenza artificiale può servire oggi nella pratica clinica sia come predizione del rischio sia come caratterizzazione del paziente e sia come planning delle procedure tutto questo però ovviamente ha anche dei limiti in questa bella meta-analisi pubblicata sull'ANSE due anni fa gli autori hanno confrontato l'accuratezza di tecniche di machine learning di intelligenza artificiale versus i medici nell'interpretazione di immagini e hanno mostrato che cosa? hanno mostrato che fondamentalmente l'intelligenza artificiale vince sempre questi sono i medici che hanno una sensibilità di 79 l'intelligenza artificiale ha quasi 10 punti in più la specificità c'è un piccolo miglioramento però c'è tuttavia gli inglesi che sono molto più abituati di noi a gradare l'evidenza hanno fatto un'analisi simile però stratificando per tipo di studi e anche per qualità degli studi uno stesso tipo di lavori quindi tutti quegli studi che confrontano l'intelligenza artificiale con i medici per valutare tecniche di imaging hanno incluso due trial randomizzati e in un trial randomizzato l'intelligenza artificiale era migliore mentre nell'altra invece era neutrale e hanno incluso un enorme numero 81 studi osservazionali nella stragrande maggior parte dei casi l'intelligenza artificiale funzionava meglio dei medici però se poi andiamo a vedere il rischio dei bias in questi studi osservazionali c'era un importante rischio di bias quindi secondo me un qualcosa di molto utile che dobbiamo ricordare come già accennato prima è che noi siamo un pochettino folgorati siamo interessati da queste aree sotto la curva così alte da questi modelli di predizione così accurati però non dobbiamo mai dimenticarci che la cosa più importante è la qualità degli studi dell'evidenza che noi andiamo a costruire quindi concludo l'intelligenza artificiale ci permette di migliorare la caratterizzazione clinica dei nostri pazienti ci permette anche di capire molto bene il rischio procedurale delle complicanze può anche migliorare l'intervento la scelta del tipo di valvole in questo setting particolare anche se manca ancora la validazione clinica grazie grazie Fabrizio veramente eccellente è la prospettiva è la prospettiva di avere un grosso braccio di aiuto destro e sinistro nel nostro lavoro ma ricordiamoci sempre che la eticità la come dire la direzione che dobbiamo prendere nella gestione del paziente e il motivo per cui facciamo tutto quello che facciamo è compito e dovere del cardiologo in questo caso abbiamo tre esperti e preghiamo loro di dare il loro commento e la loro osservazione su quanto detto che è estremamente interessante grazie cominciate con l'ordine che volete prego tanto ringrazio gli organizzatori per avermi invitato a discutere questi temi particolarmente interessanti io avrei molte cose da dire ma il tempo è poco quindi cerco di fare come dire lascio un elenco puntato e numerato e un paio di alert la prima cosa inizio con un'osservazione molto generale è ovvio che l'intelligenza artificiale per chi è seduto in questa sala rappresenta una tecnologia e quindi è qualcosa da utilizzare per ottenere un risultato ben preciso sulla base di questo ovviamente come tutte le tecnologie ha dei grossi limiti uno dei quali è la capacità che va messa in campo di progettare come dire l'esperimento nel caso specifico per esempio nel progettare il trial clinico nella selezione dei pazienti che deve avere delle caratteristiche ben precise altrimenti qualunque tipo di approccio basato sull'intelligenza artificiale darà dei risultati che sono direi questionable questo era un po' il primo alert due punti di interesse secondo me per il clinico il primo riguarda la capacità evidenziata da Marco De Rio parentesi brevissima con cui lavoro a più di dieci anni ogni volta mi sorprende per la capacità di chiarire diciamo concetti complicati per qualunque tipo di assise cosa viene fuori viene fuori che questo tipo di tecnologia la chiamo così è in grado di generare in realtà pazienti virtuali con una cardinalità tendente a infinito il che significa che se io immagino di poter fare dei trial clinici virtuali potrei avere a disposizione un numero infinito di pazienti e questo è il primo punto perché ricordo a tutti lo sapete meglio di me che l'FDA ha già provato una serie di trial clinici virtuali e credo che questo sia un punto di forza gigantesco della tecnologia intelligenza artificiale per un clinico il secondo punto è e mi riferisco a quanto ha detto il professor Gaita alla fine del suo intervento ovvero che l'occhio umano non arriva a vedere tutto su una traccia ECG è vero l'intelligenza artificiale riesce a vedere un po' di più ma anche l'intelligenza artificiale è una tecnologia è un sistema di misura mettiamola così che ha associato una sua incertezza e bisogna esserne consapevoli di questa incertezza che è associata all'uso di queste tecniche l'ultimo è anzi il penultimo è la qualità del dato che è fondamentale perché questo tipo di tecnologia abbia come dire un successo dal punto di vista diagnostico predittivo concludo ricordando comunque a tutti che correlation is not causation come ha messo in evidenza Fabrizio Daschenz ovvero il fatto che emerga tramite tecniche di machine learning che esiste una correlazione tra il numero dei coccodrilli presenti nelle paludie della Louisiana e l'incremento di infarto miocardico nell'Europa meridionale è una correlazione ma è difficile trovare una relazione di causa-effetto mi taccio ho rubato anche troppo tempo va bene anch'io ringrazio di essere stato invitato veramente bellissime queste presentazioni vorrei dire anch'io due cose importanti secondo me l'introduzione di questa tecnologia e concordo con questo termine nell'ambito biomedico sta producendo un cambio di paradigma al di là del fatto che io poi dimostri che i sistemi di machine learning e quelli non machine learning in alcuni casi vadano ugualmente bene se uno apre due libri non so uno di statistica e uno di machine learning il primo algoritmo di machine learning che viene mostrato è una regressione lineare quello che voglio dire è che la grande differenza è un approccio di visione e ingegneristico se vogliamo l'approccio statistico non guarda le persone guarda la popolazione prendo due popolazioni e queste due popolazioni valuto una o una caratteristica una o un'altra un marcatore o qualcos'altro vedo se sono diverse il p-value è bassissimo e io posso con certezza dire che se io riprendo due altre popolazioni con le stesse caratteristiche riottengo queste differenze ma molto spesso se io vado a guardare ciascuno di questi individui che non ha una diciamo specificità enorme su quella caratteristica posso avere predizioni su un individuo totalmente casuali questo si può dimostrare in molti modi il machine learning pone un accento diciamo attraverso la sua tecnologia attraverso i suoi approcci molto pratici in una visione in cui porta anche i metodi statistici classici a essere valutati non solo per il rischio per l'od ratio ma su corti esterne per quanti pazienti funziona o meno nel 2016 è uscito un articolo di Nature molto bello in cui faceva vedere che tra tutte le medicine più importanti quando funzionavano bene funzionava per un paziente su quattro oppure in media una paziente su venticinque che è una cosa che è statisticamente enorme però vuol dire che agli altri pazienti questo non funzionava e sapere a priori se c'è un modo di stratificare o predire a quali pazienti può essere utile qualcosa può essere un ausilio secondo me fondamentale per la medicina quindi il machine learning credo che machine learning deep learning questi nuovi approcci oltre a diventare una tecnologia grazie soprattutto alle moderne infrastrutture perché diciamo molti di questi algoritmi quando è iniziato alla fine degli anni 80 erano lì però mancava l'infrastruttura di calcolo per poterli rendere adeguati allora mi prendevano in giro i miei colleghi informati dicendo che fare machine learning e intelligenza artificiale è una stupidità dovevo occuparmi di reti in realtà adesso anche molti di loro li stanno usando perché la tecnologia è matura per implementare queste cose e dall'altro punto di vista che volevo dire di recente sono stato in realtà pre-covid quindi non è di recente per niente a un congresso sul deep learning e una cosa che mi ha colpito era una presentazione di una ricercatrice israeliana che mi ha detto che per esempio per la mammografia in Italia si usano due medici per essere sicuri in Europa specialmente per dare questa scelta e negli Stati Uniti un solo quindi il numero di biopsie fatte negli Stati Uniti è molto più alto però alla fine si arriva a questo in Israele hanno questo database enorme e loro stavano copiando l'idea un medico e un sistema di intelligenza artificiale quando il sistema e il medico concordavano non c'era problema quando invece discordavano il medico tornava sulla sua decisione nel senso che poteva dire no ragione io diceva no ero stanco in realtà aveva ragione e questo ha portato l'accuratezza alla stessa qualità di quella dei due medici questo per dire quindi superiore diciamo a quella americana quindi in generale un ausilio soprattutto perché la macchina non si stanca per la parte diagnostica o consigli prognostici o stratificazione credo che questo sia fondamentale per il futuro ma soprattutto il cambiamento di paradigma buongiorno grazie intanto a Gaetano e a Fabrizio per l'invito io sono Marco Aldinucci lavoro sono un informatico professore ordinario di informatica all'università di Torino pensavo di parlare di altro però vorrei invece parlare delle relazioni perché sono state molto belle riprenderei il punto menzionato da Fabrizio in una slide da un certo punto c'era scritto no casuali io ho studiato a Pisa e ho stato tante volte sotto la torre dove Galileo buttava allora il rapporto causa-effetto è quello che noi chiamiamo un metodo scientifico ok quindi non si può abbandonare bisogna distinguere cioè diciamo facendo un gioco di parole tutto quello che non è causa è caso questo è il punto è un po' più delicato il fatto è che noi cerchiamo delle relazioni che non sono definite ex ante cerchiamo delle feature nelle immagini nei dati cerchiamo delle correlazioni che non sono predefinite le vediamo emergere dai dati c'è questo famoso esempio falso ma suggestivo sui carelli della spesa in cui a un certo punto si correlano pannolini e birre pannolini e birre che è una roba che nessuno forse sanno di mente correrebbe almeno diciamo nella determinazione del prezzo o anche della posizione dell'item nel corridoio poi se uno ci pensa bene immagina che se uno ha un bambino piccolo va al supermercato deve scegliere i pannolini dice ma che miseria devo scegliere i pannolini poi esce dal corridoio vede un bello scaffale di birre siccome al pub non ci va perché c'è un bambino piccolo si prende tutte le birre migliori che sono lì e diciamo il supermercato è contento perché le birre costano care e c'è lo sconto sui pannolini questa è una relazione difficile da immaginare prima ma che emerge dai dati e quello che il machine learning spesso cerca in questi dati è quello che abbiamo fatto nel lavoro che poi è apparto sull'ANSA è esattamente questo e l'abbiamo fatto perché l'intelligenza artificiale fatemi dire così per me è un bambino di cinque anni accompagnato dai medici perché noi siamo partiti da tante variabili tantissime variabili che non funzionavano e noi esperti abbiamo trovato gli algoritmi in modo di correlare ma poi sono stati medici e ci hanno detto no ma questa proviamo a toglierla quest'altra perché secondo me non serve e alla fine attraverso un processo iterativo è vero abbiamo messo a punto un dataset come diceva Umberto molto buono abbiamo un lavoro che abbiamo fatto insieme che ci ha permesso di arrivare a un'accurasi di oltre il 90% nel lavoro che Gaetano menzionava e io sono d'accordo con lui io sono un informatico ma diciamo l'ultimo punto della sua relazione e non dimentichiamoci che appunto questo io non la chiamerei tecnologia più metodologia però insomma è qualcosa che dobbiamo fare insieme attenzione permettetemi questo atto di presunzione di orgoglio da informatico insieme non vuol dire che una parte lavora per gli altri perché diciamo è importante etichettare bene i dati noi lavoriamo anche con i radiologi abbiamo mezzo milione di TAC che possiamo buttare via tutte perché sono etichettate male non sono pensate per un'analisi automatica dobbiamo crescere insieme diciamo in team un vero lavoro multidisciplinare diciamo utilizzando le competenze di tutte l'ultimo punto diciamo questo tema si lega molto a quella che oggi si chiama che è una delle frontiere insieme al federated learning che è dell'intelligenza artificiale si chiama explainability queste relazioni che emergono dai dati specialmente in ambito medico non ci basta che esistano ma dovrebbero essere anche spiegabili in qualche modo dovrebbero avere una qualche relazione che un medico può ricondurre come come l'esempio della birra dei pannolini all'inizio boh è una relazione ma poi ho trovato una spiegazione a quella relazione noi abbiamo fatto tanti lavori ultimamente sul covid il covid è arrivato abbiamo lavorato sul covid nel caso del covid per esempio la nostra idea di explainability era diciamo colorare di rosso le lesioni sulle tach polmonari che erano quelle che portavano alla diagnosi covid il nostro challenge era che il modello black box non galileano di intelligenza artificiale costringere anche utilizzando quelle tecniche mostrate da De Rio come l'adversario al training costringere quel modello a comportarsi in questo modo io accetto una diagnosi black box ma voglio che questa diagnosi sia fatta solo attraverso i punti che tu colori di rosso nell'immagine non accetto niente di diverso e diciamo che è una spiegazione weak non particolarmente forte di explainability però è secondo me quello che è importante fare perché i modelli black box in medicina io credo non 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 sono tanto opportuno grazie non da troppo lungo avremmo due domande molto rapide al professor De Ferrari e al dottor D'Ascenzo io vorrei chiedere Fabrizio rapidamente tu pensi che per esempio nell'ambito della Tavi ci può essere spazio per machine learning per ottimizzare la terapia antitrombotica post procedura oppure non siamo in grado ancora di riuscire ad avere questo dato in più rispetto a quanto si sa secondo me si un aspetto secondo me importante come mostrava anche Gaetano in un'altra ma anche nel praise i sanguinamenti che poi ovviamente sono un po' il drawback di quello che stai dicendo tu sono le aree sotto la curva anche con machine learning funzionano meno bene perché io penso che questi data set sono data set cardiologici in cui noi non andiamo a catturare tutte quelle variabili più internistiche la diverticolosi la gassette che poi impattano nella vita reale sui sanguinamenti quindi io penso che su un database costruito apposta ci possa essere assolutamente di utilizzo grazie Gaetano una domanda provocatoria ma è nata dalla tua osservazione che ho apprezzato se tu dovessi collocare domani un sistema di intelligenza artificiale che aiuti il medico perché è quello che ho detto prima il medico deve fare sempre il medico la metteresti alle molinette o nel piccolo ospedale di provincia dove magari c'è un solo medico che non è neanche un cardiologo dove fare una diagnosi perché io alle molinette se fossi io il medico chiamo un collega esperto se sono fortunato chiamo Fiorenzo mi guardi ma se io sono in un ospedale periferico con chi mi confronto quindi cosa pensi di questo aspetto credo che bisogna crearlo alle molinette e poi utilizzarlo nell'ospedale periferico non siamo ancora pronti per utilizzare l'ospedale periferico lo scopo di portare qui come avete visto sul palco delle persone che non sono medici ma che proprio devono stimolare il desiderio di collaborare credo che sia questo nei prossimi cinque anni diciamo facciamoci una scadenza raccogliere dati elaborare sistemi che poi possono essere trasferiti e aiutare il medico laddove questa difficoltà del consulto del collega è più difficile grazie 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 ai relatori grazie agli esperti una sessione sicuramente è molto interessante proiettata al futuro io per chiudere direi che tutte le relazioni ci hanno dimostrato l'utilità del machine learning nella diagnosi nella stratificazione prognostica però la chiosa finale anche del dottor Marra o del professor De Ferrari non dimentichiamoci che questi sistemi non devono sostituire il medico dobbiamo continuare a fare il medico integrarli magari con tutti gli step di approccio di anamnesi di clinica e degli altri esami strumentali anche di primo livello che abbiamo per gestire i nostri pazienti grazie e ci rivediamo fra 15 minuti 15 minuti bravo grazie grazie a tutti 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 grazie grazie a tutti 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 contro contro grazie a tutti 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 fare la grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie grazie a tutti 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 grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti